quando non è nel dubbio vai sempre di legacy va bene, ti seguito quasi perché vanno la prossima ti introduco un attimo iniziamo allora possiamo iniziare abbiamo avviato la diretta grazie per essere venuti a questo seminario riunione didattica del NALUG del ciclo di incontri NALUG et Unina e oggi sarà tutto quanto dedicato a lui se avete difficoltà a POSCHIRES il nome rimane sempre lo stesso allora mi presento un attimo mi chiamo Federico Campoli sono napoletano all'estero sono lasciato Napoli nel 99 sono stato un pochino in giro sono stato qualche anno anche proprio letteralmente all'estero dall'Italia e mi sono ritrovato a amare questo database e poi a entrare a far parte della comunità internazionale e in questo caso parlo come membro di POSCHIRESQL Europe che è l'associazione ombrello delle varie associazioni nazionali a livello europeo a livello europeo inteso come continente quindi anche il Regno Unito che ha deciso di purtroppo di lasciarci a livello geopolitico in realtà fa parte di POSCHIRESQL Europe e organizza anche in questo caso i PG Day poi tra l'altro l'ultima presentazione è proprio dedicata alla storia di come è nata tutta sta roba quindi è molto discorsiva proprio per quando si arriva alla fine della giornata dei due talk tecnici che gli zuccheri calano nel cervello e così via allora vi presento rapidamente nato nel 72 ne dimostro spero di meno mi dicono tutti che ne dimostro di meno però ho 51 anni nell'85 grazie anche al Filmtron in realtà mi sono appassionato all'IT alla tecnologia informatica nel 2006 era un Oracle DBA cioè il marchio a fuoco non vi dico dove e ho scoperto questo stranissimo affare POSCHIRES 7.4 ho fatto una io non gioco neanche in lotto però io dico POSCHIRES è la migliore scommessa che ho mai vinto in vita mia perché all'epoca nessuno gli dava due centesimi il dominante era MySQL e nonostante avesse delle grosse pecche e tuttora ne ha MySQL ma era velocissimo utilizzato supportato io ho scoperto POSCHIRES mi è piaciuto da subito e adesso direi che si è vinto assolutamente tra l'altro sì POSCHIRES ha cominciato come te facevi notare POSCHIRES ha cominciato a scalare noi i sondaggi d'opinione in realtà si dichiara essere il più avanzato database open source in giro effettivamente poi vediamo proprio in questa presentazione tra le tante cose proprio perché effettivamente ci credo parecchio ho un tatuaggio di POSCHIRES QL ultimamente ci ho messo anche FreeBSD tra poco penso a a ottobre novembre ci metterò anche Tux lo faccio in quel periodo lì perché vorrei andare anche a fare un po' di nuotate e visto che il mare non si sposa bene con i tatuaggi in guarigione però devo dire che questo è stato tra l'altro il mio primo tatuaggio che ho mai fatto che l'ho fatto per celebrare dieci anni di carriera da DBA e devo dire che tuttora siamo due persone due folli io e Devrin Gunduz il maintainer degli RPM di POSCHIRES che abbiamo il tatuaggio di POSCHIRES altri dobbiamo ancora trovarli che sono talmente grulli da mettersi a fare una roba di questo tipo mi occupo di consulenza informatica sono un freelance DBA ma in questo caso vi do semplicemente i miei contatti se volete entrare in contatto con me o comunque anche poi vi parlerò anche dei contatti comunitari questo è il mio LinkedIn dove sostanzialmente posto cose di vario genere relative all'informatica questo è il mio GitHub ci sono vari progetti tra cui il mio progetto principale che adesso lo sto rimettendo in sesto è stato un po' sgarrupato si chiama PgChameleon è un replicator da MySQL a POSCHIRES e fa anche migrazioni tra l'altro di recente ho fatto migrare un Aurora MySQL a un Aurora POSCHIRES e funziona da paura però adesso gli devo rimettere un pochino in mano tutto fatto in Python questa è la mia SoundCloud dove invece metto su la mia musica perché tra le tante cose sono anche un chitarrista e jazzista amatoriale sono solo ho quattro anni che studio però qualcosina qualche standard lo riesco a fare il mio blog che ultimamente anche lui dà bisogno di tant'amore sto cominciando a scrivergli qualcosa a breve vedrò di pubblicare qualcos'altro e in inglese la maggior parte di quello che scrivo e faccio comunque rimane in inglese allora Tevlo Contents per questa presentazione questa la feci nel 2021 al Plone Conf perché Plone ancora gira la feci a Ferrara mi chiesero di fare un paper che poi in realtà era una sorta di invito ma parliamo di questa roba qui allora ho organizzato i titoli basati sulla guida galattica degli autosopisti praticamente quindi cominciamo con Don Panic poi il Pan Galattic Gargoyle Blaster Ravenous Blue Blatter Beast of Thrall Time is an Illusion e poi finiamo questa cosa qui cominciamo con Don Panic Don Panic riguardo a Postgres allora parliamo proprio un attimo della storia quando è che nasce Postgres Postgres nasce nel 1990 se no 92 93 in realtà e nasce come progetto del professor Michael Stonebraker all'università di Berkeley tra l'altro Stonebraker di recente un annetto ormai più di un annetto è stato assunto da Enterprise DB Enterprise DB si è portato in casa l'autore originale ecco Stonebraker lui produsse quello che c'è ancora in giro Ingress il database Ingress che ancora credo di recente è stato anche rilasciato sotto licenza open source ma non era contento di Ingress quindi produsse questo nuovo prodotto che si chiamava Post Ingress Contratto in Postgres quindi adesso sapete perché Postgres si chiama Postgres perché è l'evoluzione di Ingress poi a un certo punto il progetto Closed venne lasciato lì morire dal suo autore perché non aveva più interesse venne recuperato dagli studenti di Berkeley che cinque folli postano questa cosa su una BBS che all'epoca c'erano le BBS si è aggiunta gente e da adesso siamo qui a parlare di Postgres QL il progetto è gestito globalmente dal Postgres Global Development Group contratto in PGDG quando trovate dei riferimenti PGDG con estensione PGDG come i pacchetti significa che provengono dal gruppo ufficiale tipo il repository Debian piuttosto che quello lì RPM magari possono metterci il loro nome magari alterano un pochino però se volete il vanilla andate sempre comunque sul PGDG ogni anno c'è una nuova versione di solito compare verso settembre-ottobre e l'ultima in ordine di numerazione è la numero 16 l'anno prossimo quindi a ottobre comparirà la 17 ma all'estero non sono scaramantici sul 17 invece la 13 vi dico la verità andatevi a guardare il logo e il bottone di rilascio della 13 è meravigliosa c'è un elefante più con tutti i talismani possibili e immarginabili ferri di cavallo corni zampa di coniglio c'è di tutto perché il 13 all'estero porta aiella io quando io lo dico il 13 a me a me 17 alzi 16 bis andiamoci chiaro e poi c'è da dire che ogni 3-4 3 mesi circa poi vi do le date precise per la schedula iniziale ci sono anche i rilasci minor però la cosa interessante è che ogni release maggiore quindi ogni release importante ogni release annuale viene supportata per 5 anni questa è la regola fondamentale quindi abbiamo per esempio la numero 12 che ormai verrà dismessa raggiungerà l'endon life a novembre 2024 la 16 è stata rilasciata finirà nel 2028 la 17 andrà a 2029 e così via inoltre c'è la regola che quattro volte all'anno c'è un rilascio di bug fix in pratica durante i mesi si accumulano i bug fix e poi viene fatto un rilascio cumulativo ora la prossima è la settimana prossima 9 maggio 2024 ci sarà una minor version che andrà ad aggiornare tutte le versioni supportate c'è da dire che non è una cosa fissa può succedere che magari c'è un bug molto grave che deve essere corretto e si fa una release così al volo infatti la 14 postgres 14 ha un numero di release in più rispetto a tutte le altre perché venne rilasciato se non ricordo male verso luglio fece proprio un rilascio d'emergenza perché c'era una CV molto brutta c'era il rischio proprio di andare a incasinarsi di brutto perché tra l'altro la sicurezza di postgres è molto importante e parlando di sicurezza postgres è diventata un'autorità CVE quindi praticamente ha la sua numerazione di CV arrivata a questo punto quindi fa parte di questo gruppo qui di supporto e quant'altro se avete curiosità postgres developer roadmap vi trovate tutto il rilascio tra l'altro è interessante che postgres non utilizza nessun tipo di bug tracker non utilizza si fa tutto in mailing list vecchio stile non utilizza metodiche di ticketing come Gira piuttosto che altri no si fa ogni mese c'è una commit fest le commit vengono mandate prima in mailing list le patch vengono prese in carico dalla comunità fatti il review fatti il feedback e quando una cosa è sufficientemente stabile che significa con documentazione codice ben documentato che non ci siano schifezze dentro a quel punto un gruppo di committer che è un gruppo molto ristretto del gruppo di postgres gente che contribuisce da almeno 4 anni al codice può diventare un committer a quel punto riesce a dal commit e a quel punto entra nella nuova release quindi è molto faticoso molto difficile molto resiliente poi ai rischi anche di social engineering non completamente assicuro parlavamo proprio del discorso della libreria XZ che per poco non ha causato l'apocalisse su internet tra l'altro è stata scoperta da Andrew's Friend che è uno dei contributor più importanti di postgres quello che ha introdotto la GIT la just in time completion un autentico genio ha avuto quella colpo d'occhio di scoprire le cose pan galattica argol blaster questa qui è una zeppola di capparelli se viene curiosità ogni tanto torno a Napoli è quello in grasso di 2-3 kg devo dire che purtroppo anche stamattina non ho potuto non cedere a una sfogliatella allora parleremo delle un attimo in una cosa molto tranquilla le feature di postgres quella allora postgres è un database acid compliant normalmente acid è atomicity consistency isolation durability tutti i paradigmi vengono implementati si può leggermente spegnere la durability facendo il commit asincrono ma di default tutto quello che viene scritto va subito sui log dalle transazioni garantendo la durability la scalabilità di postgres è garantita dall'MVCC multi version concurrency control questo qui è per chi ha mai lavorato con Oracle è la contrapposizione totale all'handotablespace di Oracle l'handotablespace di Oracle è una copia dei blocchi fisici per garantire la consistenza in lettura postgres invece con questa metodica non fa degli update ma fa delle insert delete e lascia delle righe di versione precedente in essere tracciate dalle transazioni per essere visibili magari a transazioni che devono leggere soltanto quelle quindi versioni precedenti quindi ha uno snapshot in movimento delle varie transazioni garantito a livello di blocco è un'ottima implementazione ma molto debole proprio per gli update quindi se avete tanti update le tabelle tendono a ingrossarsi tanto gli indici si ingrossano e tutto il mondo va l'entropia si incasina e arriva alla morte dell'universo la morte termica dell'universo ecco quindi attenzione agli update ha un supporto per le table space quindi è possibile creare dei oggetti logici che corrispondono a oggetti fisici e a percorsi fisici che permettono di distribuire le relazioni tabelle da una parte magari su un disco più lento gli indici su dischi più veloci o viceversa come vi pare e piace questa è una cosa che ce l'ha Oracle fin dal suo inizio Postgres l'ha introdotta con Postgres 8.0 gira su quasi qualsiasi Unix anche se la fanno da padrone principalmente Linux ovviamente è quello meglio sviluppato adesso si sta andando molto su architettura ARM anche perché devo dire che ARM ha dei vantaggi non da poco soprattutto a livello di blocco del file system e anche su Windows ma vi sfido a farlo andare veloce purtroppo già la memoria di Linux fa cazzotti con Postgres io dico sempre che Postgres e Linux non sono assolutamente amici si pestano i piedi l'un l'altro si possono rendere un attimino più friendly però Windows in realtà è veramente aliena il metodo di gestione della memoria che fa cazzotti poi con come la memoria viene implementata e gestita il singolo segmento in memoria dentro Windows fa fatica e in effetti passi da Windows a Linux e le performance triplicano quadruplicano semplicemente gratis supporto per le foreign tables le foreign tables sono una figata pazzesca perché praticamente potete mappare tabelle remote di qualsiasi o quasi sorgente ai tempi di prima che Twitter diventasse ormai l'ombra di se stesso quando i tweet erano accessibili si potevano mappare tabelle che andassero a leggere lo stream di tweet direttamente quindi te leggevi la tabella Postgres ma in realtà andavi a recuperarti i tweet direttamente dalle api di Twitter e tra le tante cose le foreign tables c'è il supporto per Postgres leggere tabelle di MySQL l'ho usato spesso e volentieri per superare le limitazioni delle SQL di MySQL facendo manipolazioni remote Oracle SQL Server quello che volete addirittura database close no SQL come possono essere Cassandra piuttosto che Neo4j ce ne sono di tutto di più addirittura Kafka c'è anche uno streamer per le code Kafka devo dire che è molto interessante tra l'altro l'ho fatto per un cliente molto molto interessante linguaggi procedurali quanti ne volete ovviamente PLPGSQL è quello che la fa da padrone è molto simile al PLSQL di Oracle mentre invece abbiamo PLPython PLPerle c'è PLPHP PLV8 che è roba fatta da Google quindi potete programmarvelo veramente come volete è veramente notevole supporto per data type no SQL HStore JSON HStore è quello legacy che ormai è un sistema key to value quindi è un chiave valore non molto performante mentre invece il dato JSON che andremo a vedere più avanti è molto interessante soprattutto perché è un'implementazione reale di JSON l'altra caratteristica di Postgres che poi è stata la sua carta vincente è stata il tipo di licenza che nasce come licenza due clausole FreeBSD e poi si è evoluta nella licenza di Postgres che è pari paro semplicemente ci sono i nomi del Postgres Global Development Group questa è la differenza è adattata ma praticamente vuol dire la stessa cosa e il buono è che chiunque può prendere Postgres come per esempio EnterpriseDB lo chiudi e fai un prodotto commerciale però la buona cosa è che normalmente queste aziende hanno dentro i contributor di Postgres e quindi parte del codice che possono fare possono rimandare indietro lo rendono poi parte di Postgres quindi comunque fanno un lavoro di restituire alla comunità il lavoro quindi non è poi ci sono i cattivi sappiamo bene i someone else computer tutti che prendono e non danno mai indietro purtroppo è lì i cambi di licenza che qui stiamo assistendo di recente come per esempio Terraform piuttosto che altri purtroppo sono per proteggersi dal comportamento scorretto di questi player io purtroppo ci si può fare poco sono delle grossissime corporation ci dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco ma per fortuna Postgres ha comunque degli ottimi player è sviluppato in C vecchio stile C? sì in realtà no perché in realtà C si fa riferimento non tanto all'NCC in Postgres ma al Postgres C perché comunque tutte le limitazioni di assenza di funzioni di alto livello di C sono state reimplementate come macro oppure come del subroutine all'interno di C quindi per esempio l'allocazione della memoria che non segue lo standard C ma utilizza la contestualizzazione della memoria anche per una questione proprio di ottimizzazione della memoria viene gestita dalle routine dalle macro di C quindi si fa la chiamata a una funzione diversa che non è malloc ma pg malloc se non ricordo male e quella lì contestualizza la memoria e eventualmente la distrugge quando alla fine non serve più quindi è molto efficiente da questo punto di vista quindi è C ma non è anzi C è il Postgres si può ha un'interfaccia programmabile con librerie esterne quindi potete scrivergli le vostre funzioni tra le tante cose anche come libreria C esterna e per esempio tool esterni fatti come estensioni utilizzano proprio questa tecnica per aggiungere roba a Postgres tipo la vista che poi è quella lì che si presenta sempre ai corsi che è la pgstat statements che fa un logging degli statement eseguiti in Postgres con performance in tempo reale accumulate di IO quindi quanti blocchi trovati in memoria quanto è andata la più veloce la più lenta e così via utilizza una libreria esterna che aggiunge questa funzionalità di raccogliere informazioni sulle query a Postgres e esporle come vista all'utente supporto al sistema delle estensioni quindi aggiungere questa estensione un banale create extension nome extension se l'estensione è scritta distribuita e settata nelle posti giusti non dovete fare nient'altro che fare un create extension e vi ritrovate queste funzionalità aggiuntive supporto partizionamento nativo e dichiarativo dalla versione 10 adesso veramente con la 16 siamo arrivati a dei grandissimi livelli esecuzione delle query in parallelo credo che sia l'unico database open source che faccia sta roba l'altro è oracle che permette il parallelismo è un tipo di parallelismo alla maniera di Postgres ovvero è Postgres che decide quando conviene fare il parallelismo tra l'altro una grossa differenza con oracle è che non c'è il sistema degli int ma c'è un'estensione che fa la stessa cosa c'è il pgintplan che implementa gli int di oracle in Postgres tanto parlando di estensioni ecco il parallelismo segue la logica di Postgres ovvero rendere l'utente il meno coinvolto possibile per decisioni che magari non riesce neanche a comprendere l'utente poi il dba riesce comunque a spingere il database in una direzione piuttosto che un'altra e certe volte però è anche faticoso devo dire a volte mi mancano quelle cose quelle forzature che magari posso trovare in oracle in altri post però l'elefante lo amo assolutamente supporto per la logica per la replica logica quindi praticamente replica secondo statement e non secondo blocchi fisici in realtà Postgres ha una replica fisica dei blocchi sulla connessione se quella è estremamente robusta la replica logica manca purtroppo un pezzo molto importante che è la replica delle DDL data definition language cioè tutto quel gruppo di comandi che alterano gli schemi quindi create table alter table purtroppo non vengono replicate il risultato è che se io ho una replica logica in essere e altero lo schema sul publisher la replica si rompe perché cambia la struttura del dato e non viene replicata c'era una patch in arrivo sulla versione 16 purtroppo l'autore è andato missing in action tra l'altro ieri da ieri qualche giorno fa ci ho guardato è addirittura withdrawn quindi non ci sarà più c'è un'estensione che aggiunge sta roba mi sa che mi ci metto un attimo e magari me la scrivo io un'estensioncina e l'aggiungo a pgchameleon perché è quello che a pgchameleon vorrei aggiungere anche la replica postgres per una serie di motivazioni purtroppo la mancanza di questa roba me la rende molto difficile è assurdo perché riesco a replicare in maniera efficiente anche a livello di sintassi da mysql ma non completamente da postgres accidenti comunque altre caratteristiche il partizionamento è dichiarato che gestisce migliaia di partizioni a patto ovviamente di avere le risorse per fare questa roba perché ovviamente se abbiamo una macchinuccia che gira su un raspberry pi ok parliamone voglio dire però a livello proprio di architettura è garantita una roba di questo tipo gli indici B3 che sono poi perché postgres tra le tante cose supporta anche tipi di indici è diverso ma quello general purpose è il Libby Tree ha implementato di recente la deduplication ovvero riduzione della dimensione dell'indice quando ci sono dati duplicati quindi un indice a parità dalla versione 14 alla 15 che poi ha introdotto inizialmente questa roba e l'indice dopo essere stato ricostruito dopo la migrazione si riduceva già di un 30-40% in dimensione a parità di dato indicizzato quindi tanta roba e la 16 migliora ancora supporto di statistiche avanzate quindi tutta la parte del piano di esecuzione è un piano di esecuzione che si basa sui costi e quindi sulle stime dell'accesso ai dati non è basato su regole supporto per il common table expression e l'inlining il width statement quindi costruzione di blocchi di SQL che possono essere usati in altre parti dell'SQL stesso con anche alterazione dei dati quindi anche DML all'interno con ritorno dei dati modificati e utilizzabili in altre parti è una roba che è veramente pazzesca piani preparati in modo tale da limitare i danni in caso di piani frequenti che magari vanno a fare delle analisi di tipo dei piani di esecuzione just in time compilation quello di cui vi parlavo l'autore che ha scoperto quella bagagna nella XZ è stato l'aggiunto lui just in time compilation praticamente permette di deformare alterare i piani di esecuzioni in modo da renderli più efficienti più byte like con le CPU che vanno a processarli differenze di performance ce ne sono ma i costi di avvio proprio del just in time perché utilizza LLVM se non ricordo male sono importanti quindi la query deve essere veramente massiccia è un'ottimizzazione pensata proprio per gli analytics per il big data quindi anche l'evoluzione di Postgres sta andando in quella direzione segue il trend e quindi bene o male aggiunge pezzi aggiuntivi check sum control dei blocchi quindi prevenzione del silent block corruption Postgres è in grado di verificare se il blocco ha un check sum ogni volta che viene caricato ovviamente ha un costo di CPU questa cosa però garantisce che i dati non diventino spazzatura magari perché c'è un file system che sta cominciando a rompersi sotto di noi reindex concurrently quindi ricostruzione degli indici vi parlavo del discorso MVCC gli indici sono molto vulnerabili la reindex normalmente è un conviene spararsi alla tempia ci si fa meno male ma con la concurrently di solito ci si risolve si può fare una reindicizzazione senza bloccare le operazioni poi che possa provocare dei danni esagerati e un altro discorso per quanto riguarda come le transazioni sono implementate in Postgres un talk molto interessante al penultimo Fosdem PG Day che vi consiglio assolutamente ad andarci a Fosdem che è un'esperienza oltre a parte per il discorso di Postgres ma il Fosdem è meraviglioso veramente un'esperienza è il comic con dei nerd è bellissimo e lì c'è stata una presentazione di un mio amico che dice come una reindex concorrentrice ha prodotto un 6 ore di downtime non aspettato purtroppo è una roba soft quindi ha un impatto importante sulle performance del sistema ha prodotto un resource starvation il database è andato nei pazzi e quindi a quel punto è successo di tutto di più purtroppo quindi 6 ore di downtime hanno recuperato ovviamente i dati perché avevano il backup però 6 ore per ripristinare un backup che era roba di qualche tera community ecco la community di Postgres è una community veramente pazzesca secondo me perché a parte che devo dire quando sono entrato nel chat poi del Nalug mi ci sono sentito molto a casa credo che sia veramente uno dei migliori Lug in assoluto veramente complimenti per la partecipazione per l'organizzazione io sono stato presidente del Prato Linux user group ai tempi poi ve ne parlerò quando parleremo del PG Day ma lì avevamo una roba simile poi purtroppo è morto quindi mi raccomando tenetela in vita perché è importantissimo soprattutto ricambio generazionale lì purtroppo non abbiamo fatto sta cosa e ci si è persi l'associazione per strada comunque l'associazione di Postgres sta facendo proprio sto lavoro qui ovvero coinvolgere quante più persone possibili soprattutto a livello di ricambio generazionale perché invecchiamo tutti siamo purtroppo mortali tra l'altro ci ha lasciato qualche giorno fa Simon Riggs che io ci ho pianto perché era un amico e oltre a lui io gli veramente gli devo tantissimo perché è quello che ha reso Postgres ciò che è oggi senza Simon Riggs non avremmo il point in time recovery non avremmo la streaming replica non avremmo funzionalità che adesso abbiamo e che sono messe in piede che hanno fatto diventare Postgres un prodotto enterprise e purtroppo siamo mortali e quello devo dire è stato un'ammazzata esagerata quindi attenzione al ricambio generazionale comunque mailing list siamo vecchi ci piacciono le mailing list non vi consiglio di iscriverle alla mailing list hacker sono è insana quella mailing list 30-40 messaggi con pezzi di codice C al giorno minimo sono dei pazzi furiosi ma sono dei geni meravigliosi altrettanto quindi le mailing list generali ce n'è una anche in italiano che purtroppo non è particolarmente attiva partecipate magari anche a quelli inglesi che sono molto molto buone c'è gente soprattutto c'è dei personaggi fantastici IRC ovviamente abbiamo il nostro canale su Freenode poi abbiamo il no su LibraChat mi è rimasto Freenode Freenode è stato andato in takeover non ha aggiornato le slide no era LibraChat adesso adesso c'è LibraChat devo aggiornare questa slide bene prima di caricarla la giorno c'è un'applicazione Slack c'è un canale Telegram con 2300 partecipanti è molto rumoroso con gente che purtroppo non ha molta creanza fanno il post degli screenshot di roba aiuto fai copi in colla da uno screenshot vai alla grande comunque alla fine è interessante c'è da dire una cosa il mi abbasso che magari lo leggete questo link poi comunque vi condividerò le slide postgresql.org about policies si o si c'è un code o conduct c'è un comitato per mantenere in forza il code o conduct è indipendente da tutti gli altri organi di postgres ogni anno cambiano i membri i membri non rimangono in carica per più di due anni di fila e diciamo che la regola in realtà se lo andate a leggere la cosa è molto semplice siate non siate non fate i bastardi praticamente siate be nice sostanzialmente ovvero non fate affermazioni sessiste non fate affermazioni razziste ovviamente voglio dire è il minimo sindacale però ci sono state situazioni che effettivamente gente è stata sbattuta fuori perché effettivamente si è cominciato a fare robe non particolarmente belle e quindi è bene quindi quando interagite con la comunità attenzione perché comunque automaticamente siete sotto la giurisdizione del COC altre funzionalità che poi andremo a parlare tra poco sono JSON-B supporto per dati molto interessanti JSON-B snapshot export delle transazioni partizionamento e table line sono tre punti che mi piacciono molto e che ve ne voglio parlare un attimo più nel dettaglio quindi passiamo a travenous book blatter visto trall la vorace bestia la terrificante vorace bestia di trall bisogna mettersi l'asciugamano in testa per non farsi vedere perché esatto tra l'altro oggi è il 4 maggio quindi è Star Wars Day made for made for to be with you allora dati supportati di Postgres Postgres è uno sbanderno di dati veramente un quantitativo esagerato dati di tipo range geometrici ha tra l'altro il supporto in un'estensione aggiunge supporto spaziale completo Postgres supporto per dati di tipo network quindi potete memorizzare indirizzi IP maschere di rete e lui le gestisce in maniera nativa supporto XML l'ho usato ai tempi in cui non esistevano sistemi di replica sofisticati a parte sloni ho implementato utilizzando l'XML un sistema di trasferimento dati asincrona da macchine messe su un rete network mobili cellulari in maniera asincrona prima memorizzava i cambi di dato in XML locale poi quando la rete partiva sincronizzava tutto è venuto della gran bella roba devo dire sono stato un folle assoluto a fare una roba del genere però devo dire che ha funzionato e ha funzionato meglio del sistema che ho trovato prima di me che tra l'altro era basato su SQL Server grande supporto per il dato JSON e supporto per il dato HStore allora due cose riguarda JSON ed HStore perché adesso parliamo proprio di questo non parlerò di HStore allora HStore è un key to value in pratica è un tipo dato non strutturato dove abbiamo un nome a cui è associato un valore quindi un banale dizionario a singola dimensione un vettore a singola dimensione è di tipo estensione quindi utilizza una libreria C per trasformare quello che poi di fatto è un valore separato da pipe all'interno del blocco con un header che sono i nomi questa trasformazione non è particolarmente performante perché deve tirare in memoria la libreria fare il cambio di contesto a livello di CPU poi deallocare il tutto e poi restituire il dato di fatto consuma veramente tanti cicli di CPU mentre invece JSON è stato sempre lo stesso autore Oleg Bartonoff che è anche autore del full tech search è passato a mettere JSON come prodotto nativo come progetto nativo quindi non utilizza una libreria interna utilizza le macro di Postgres e quindi fa parte dell'architettura di Postgres dall'inizio quindi performance decisamente migliori quindi se dovete partire con qualcosa di nuovo non andate su Edge Store partite con JSON anche perché JSON implementa ed estende Edge Store di fatto ma in Postgres noi abbiamo JSON ma in realtà abbiamo anche due tipologie di JSON abbiamo il JSON classico che è quello che compare con Postgres 9.2 che di fatto è testo che però viene trasformato in un oggetto JSON ogni volta che Postgres lo legge e lo manipola e poi abbiamo il JSONB che compare con Postgres 9.4 se non mi ricordo male ormai sono passati quasi 20 anni almeno 10 12 anni mi sembra ieri che ho migrato 9.2 9.4 adesso 9.4 ormai è storia antica praticamente ecco JSONB ha una caratteristica particolare prende l'oggetto JSON lo trasforma in una rappresentazione binaria e lo memorizza in Postgres dopodiché quella rappresentazione non ha più bisogno di essere validata a meno che non si vadano a modificare i dati quindi le performance sono nettamente migliori ed è proprio quello di cui vi farò vedere quello che vi farò vedere adesso ma c'è ovviamente il rovescio della medaglia no? principio di indeterminazione di Heisenberg secondo me si applica comunque anche a livello macroscopico tiri la coperta e ti scopri dall'altro lato quindi il costo che si paga con JSONB normalmente è a livello di storage ma considerate che ormai lo storage te lo tirano dietro un tanto al chilo magari è una roba che non è più tanto importante non è più una roba che crea problemi allora prima di andare a vedere queste caratteristiche JSON ha delle funzioni native per esempio una riga di dato può essere trasformata in un JSON utilizzando questa funzione io in pratica prendo una riga di tabella row è un modo per dire sto descrivendo una riga questo qui è un comando classico di Postgres io mi vado a costruire una riga di tabella una riga dato in maniera dinamica qua dentro la passo alla funzione row2json e a questo punto la funzione me la trasforma in un oggetto JSON se ci metto un B dietro quindi row2jsonb il dato restituito è un JSONB invece di un JSON questa è la differenza quindi tutte le funzioni che vediamo adesso se ci mettete una B alla fine sono funzioni per manipolare poi l'oggetto JSONB una caratteristica poi di questa è che purtroppo vi crea dei nomi dinamici c'è un trucchetto creando dei tipi dato custom per creare nomi non dinamici però è abbastanza macchinoso purtroppo questa è l'unica rottura di scatole si può fare anche il contrario prendo un JSON e lo espando in un set di record quindi JSON each select star from JSON each passando un JSON a quel punto io ho un rappresentazione tabulare con key e value quello che poi fa edge store quindi in pratica io con queste rappresentazioni utilizzo JSON e di che vedo la mano alzata come si fa per i JSON innestati JSON innestati bella domanda in realtà bisogna fare una query ricorsiva quindi in pratica con allora avevo citato la WIT allora la WIT è una CTE ovvero io vado a costruire un blocco SQL statico che poi posso usare ma quel blocco SQL può essere WIT recursive quindi se io faccio in modo che la prima query mi ritorni un dato e quel dato poi venga usato all'interno di una union posso andare poi ad esplodermi sta roba in effetti ho fatto una roba di questo tipo per un cliente dove ha dei JSON che innestano dati che si trovano in altri punti e con questo trucchetto sono riuscito ad esplodere praticamente dato il punto d'ingresso mi ha esploso poi tutto l'albero quindi è assolutamente fattibile però non è proprio nativo non c'è una funzione infatti perché poi sostanzialmente gli innesti vanno poi in altre tabelle o nella stessa no gli innesti a quel punto è come lo vuoi rappresentare perché quindi a quel punto c'è la flessibilità di dire che faccio con il dato che mi è ritornato e quindi a quel punto posso dire ok lo metto come un campo JSON esploso oppure posso riesplodere ulteriormente si posso fare di tutto di più poi il costo e poi finiscono le risorse sulla macchina ma insomma arriva il sistemista e incomincia con la chiave inglese e comincia a picchiare sulla testa tutti quello è un classico ecco parlando proprio di JSON fate attenzione riguardo alla differenza tra JSON e JSONB allora JSON è il parsing è fatto e validato al volo mentre invece JSONB come ho detto viene scritto e trasformato durante gli insert update dopodiché rimane lì bello statico e placido in fase di lettura non costa praticamente quasi nulla inoltre un altro vantaggio interessante di JSONB è che può essere indicizzato nella sua interezza quindi io ho un campo JSONB vado a creare un indice di tipo GIN che è General Inverted Index è un tipo di indice per dati non strutturati nasce come indice per dati spaziali ma poi è stato esploso e aggiunto anche per è stato esteso anche per queste funzionalità la figata è che i JSON può essere è volatile all'interno quindi qualsiasi campo c'è dentro qualsiasi struttura di JSON l'indice GIN si riadatta automaticamente per indicizzare dove si paga il costo è che normalmente un indice GIN è 10 volte più grosso della tabella originale è invertito quindi invece di andare a puntare i blocchi fa l'esatto opposto dai blocchi si esplode tutto l'albero poi che va a destrutturare il dato che ha anche senso cioè lui di fatto l'indice GIN esplode il JSON anche innestato e lo indicizza però il vantaggio è che accedere al dato magari su un dato spuntuale passando andando a cercare un singolo campo la roba si accede molto più rapidamente che qui costo storage piuttosto che performance l'ho visto usato molto nel machine learning e per la l'impropriamente chiamata intelligenza artificiale l'AI generativa ecco dovrebbe essere il nome corretto accidente a chi mette stino ai giornalisti purtroppo si inventano ste robe siamo già per loro siamo già dal 9000 praticamente comunque nel dubbio se non utilizzate le funzioni native di Postgres di JSON e non avete bisogno di indicizzare il dato andate direttamente addirittura usate il text non usate JSON perché comunque i JSON richiede CPU per essere validato se voi avete validazione sull'applicazione buttatelo dentro un campo text il limite del text il limite del JSON JSONB è uguale un gigabyte massimo per ogni singolo campo per ogni riga quella è la limitazione strutturale di Postgres del cosiddetto dato tostabile che non è il toast ma è un acronimo che è the oversize storage attribute technique anche se sul manuale ci sia scritto una piccola facezia al riguardo al toast best thing after sliced bread ecco qui vi faccio vedere una roba con i JSON JSONB quindi ho prodotto un JSON molto grosso con JSON generator ho creato tre tabelle JSON JSONB e text con praticamente che contiene un elemento un solo campo che uno è di tipo testo uno è di tipo JSON e uno è di tipo JSONB e con questa funzioncina molto carina che è la generate series che serve a generare un gran numero di record partendo dal numero 1 fino al numero d'arrivo quindi in questo caso 100.000 righe un colpo solo sono andato a fare una insert di questo valore che viene poi fatto il cast su JSON quindi vado a inserire questa qui è la creazione della tabella di JSON praticamente quindi vado a creare il cast piuttosto al volo quindi posso fare una creazione di tabella partendo da una select quindi creo la tabella tjson qui faccio una tabella ttext l'unica differenza è che il cast lo faccio su text questo è il modo per fare il cast di variabile in Postgres e l'altro è per il JSONB i tempi di esecuzione ce l'abbiamo qua sotto perché ho fatto anche il timing che psql è molto carino per fare sta roba quindi 27 secondi una macchinina ora questo avevo fatto questi esperimenti qualche annetto fa magari adesso i numeri sono molto diversi e praticamente alla fine mi ritrovo a tirarmi fuori dal catalogo di sistema le dimensioni di queste tabelle e vediamo che sostanzialmente tjson e ttext utilizzano lo stesso spazio disco JSONB invece ne ha utilizzati più 322 MB contro i 270 MB delle controparti text motivazione probabilmente perché essendo una rappresentazione binaria è meno comprimibile rispetto al text perché Postgres in alcuni casi specialmente quando abbiamo degli oggetti molto grossi prima comprime e poi archivia eventualmente fuori il famoso toast ovviamente your mileage may vary i vostri sizing può cambiare a seconda del JSON size quindi non pigliatela per perfetti sti numeri dopodichè a questo punto io butto fuori delle query molto semplici quindi un explain explain è per tirarsi fuori i piani di esecuzione in Postgres per vedere che cosa fa effettivamente la query faccio un explain analyze quindi esegue effettivamente la query gli chiedo anche di tirarmi fuori l'utilizzo della memoria di Postgres insieme all'analyze e a questo punto quello che io vado a vedere è che la lettura del campo text mi prende 18 millisecondi di tutte le 100.000 righe se io faccio la stessa cosa con il JSON la lettura prende un pochino di più per un motivo perché il JSON deve essere caricato e trasformato in JSON deve essere validato quindi mentre il text lui legge il text e ve lo restituisce con il JSON deve anche dire ok questo JSON è valido e poi ve lo ritorna a quel punto il costo in più è la CPU sostanzialmente ma interessante è interessante che se io lo vado a fare da JSONB pur avendo una tabella più grossa il tempo di esecuzione è simile a quello del text 18 millisecondi e 796 qui 18 millisecondi e 852 qui perché manca la parte di validazione il JSON è già stato validato in fase di insert fine ma la cosa ancora più fica è quando io vado a leggere il dato utilizzando la nomenclatura di JSON la sintassi JSON in questo caso io sto andando a leggermi un elemento del mio t-value l'elemento 0 di un array che si chiama al cui interno c'è una chiave index quindi sto andando a entrare dentro il JSON e ritornarmi il valore di quella particolare chiave se io vado a farlo da text quindi lui deve fare la riconversione da JSON deve fare il cast in JSON ci mette 5 secondi e 309 5 secondi circa di lettura se io lo faccio dal JSON invece ci mette meno perché il JSON è già nativo non deve fare il cast e poi andare ad accedere al JSON già sa che è un JSON quindi quel costo in più imposto dal text lo si paga quando si va a leggere l'oggetto come JSON e non come text ma la cosa ancora più interessante è il JSON 1 seconda e 2 perché? perché il dato non deve essere ha trasformato in un oggetto JSON è già un oggetto JSON quando viene letto dal disco e quindi a quel punto viene letto come oggetto binario e viene acceduto come oggetto binario quindi attenzione a usare questa roba qui vi può aiutare vi può fare una grossa differenza tra performance costo sul disco spazio sul disco e quant'altro e adesso vediamo invece le transazioni questo sono io alla mostra d'oltre mare al comic con il quarto doc il quarto doctor e lo so io tra l'altro ho incontrato anche l'attore Tom Baker è stata una botta di mh che andai a Londra a cercare casa e quel giorno in quei giorni quella settimana era lì allo stamp center sullo strand a firmare io mi sono messo in coda lì sono andato lì tipo alle 7 del mattino c'erano già 10 persone davanti a me ma ho avuto la fortuna e ho anche una foto con lui devo dire che è un personaggio notevole veramente notevole e la sciarpa me la sono fatta fare una sciarpa di 3 metri e qualcosa di lana quindi diciamo che adesso non è praticamente adatta però devo dire che venire a Napoli anche con il caldo e con la sciarpa di lana io veni vestito da doc è meraviglioso e lì c'erano i Wuvians i Bad Wolf Campania che avevano messo la Tonsol del Tardis più un Tardis quindi mi sono fatto fare la foto allora snapshot e transazioni allora in Postgres qualsiasi cosa voi andate a eseguire di fatto avviene attraverso una transazione Postgres lavora in maniera autocommittante quindi lanciate il comando e alla fine vi aggiunge un commit automatico se da un errore vi fa un rollback fine potete avviare una transazione in maniera esplicita facendo begin eventualmente transaction o begin word che sono buzzword in realtà begin basta e avanza una volta che siete nel blocco transazionale avete la possibilità di alla fine di committare o fare rollback c'è da dire che quando siete all'interno di una transazione Postgres diventa pedanta bestia perché se basta anche un minimo errore di sintassi la transazione va in abort e anche se gli date commit lui vi risponde rollback cioè anche se fate commit lui comunque fa rollback del tipo come era Luca Cupiello no tu mi mandi la gallina ma io mi mangio un brore vegetale ecco uguale quindi praticamente che cosa succede succede che quando si usa una transazione esplicita quando abbiamo necessità di fare qualcosa di sofisticato e in questo caso il transaction è snapshot ovvero una transazione aperta può esportare la fotografia dei dati che sta vedendo ad altre sessioni che non hanno nulla a che vedere con questa transazione e di fatto posso andare a creare una lettura dei dati in parallelo sullo stesso set di dati consistenti è una figata pazzesca il pgdump in parallelo fa proprio questo lavoro qua apre una sessione avvia la transazione esporta le transazioni a tutti i worker che io gli vado a dire a quel punto i dati vengono esportati in parallelo leggendo dati consistenti dallo stesso database e ora vi faccio vedere come utilizzarla invece nelle vostre applicazioni c'è da dire che il livello di isolamento delle transazioni in postgres il default che è il read committed è una roba che deve essere come dire non va bene per fare sto lavoro perché ogni volta che completate un comando anche all'interno di una singola transazione quello snapshot viene rilasciato e perso dovete alzare il livello di isolamento delle transazioni a repetable read ovvero ogni volta che leggo i dati anche se ci sono delle transazioni esterne che committano questi dati io non vedo le modifiche perché ripeto sempre comunque la stessa lettura di prima quindi spariscono sparisce la phantom read sostanzialmente a questo punto vi faccio l'esempio ovvero creo una tabella questa qui è leggermente diversa da quella di prima del json butto dentro dei dati metto 200 righe all'interno di questa tabella tdata e poi a questo punto faccio l'avvio della mia prima transazione mi collego a postgres e faccio begin transaction isolation level repeatable read una volta fatto questo chiamo la funzione select pg export snapshot e lui mi ritorna con un identificatore di snapshot che è una roba esadecimale costruita da lui non è importante segnatevi sto valore dopodiché controllo che i dati siano effettivamente là dentro quindi select count star from data effettivamente ho 200 righe mi collega a un altro psql o a pg admin 4 o quello che volete e da quella sessione cancello tutti i dati dalla tabella data senza neanche aprire una transazione delete from data faccio il disastro cancello i dati e controllo che i dati sono a zero dopodiché nella stessa sessione faccio begin transaction isolation level repeatable read perché deve avere lo stesso livello minimo dell'altra e poi imposto lo snapshot che mi ero asportato prima quando vado a fare la select count mi ritrovo i dati pari pari a prima è ovvio che se la prima sessione si disconnette però lo snapshot viene perso e la seconda lettura poi dà errore quindi la prima sessione che esporta deve sempre rimanere connessa e idle in transaction mai fare commit prima di andare poi a perdere perché se no lo snapshot viene invalidato e poi le altre sessioni che sono collegate a sto snapshot non funzionano più ma se tenete conto di questa roba dopo praticamente potete crearvi le vostre applicazioni che lavorino in parallelo esportare dati in parallelo in maniera consistente o leggere o modificare i dati in parallelo Mosley Arnold questo è sempre il comic con c'era un simpatico Deadpool che girava c'era anche una simpatica Deadpool molto carina almeno a giudicare da come era vestito non l'ho vista in faccia però sembrava una bella ragazza devo dire Table a Inheritance lui in Rage devo dire che era veramente un gran personaggio ha fatto morire con l'unità unicorno io Deadpool l'adoro Table Inheritance e partizionamento allora Table Inheritance è una funzionalità che su Postgres è veramente da tanto tanto tempo ovvero io mi posso creare una tabella senza definire i campi ereditando i campi da una tabella padre concetto di ereditarietà infatti molto spesso di Postgres si parla di Object Relational Database System che implementa la programmazione i nomi le tabelle e le relazioni sono chiamati classi i campi sono chiamati attributi abbiamo l'ereditarietà quindi diciamo che è un pochino qual è il problema di questa implementazione è che lo storage fisico è separato e quindi non è possibile avere una chiave primaria univoca quindi quello che c'è nella tabella padre è separato fisicamente da tutte le tabelle figlie e quindi creare un partizionamento era un incubo fino a Postgres 9.6 era un incubo assoluto perché bisognava fare dei trigger con no foreign key no global primary key non c'era modo di capire l'univocità c'era da spararsi letteralmente però questa infrastruttura ha fatto poi ha spianato la strada per il partizionamento che a tutt'oggi supporta chiave primaria globale quindi si crea la chiave primaria sulla tabella partizione partizionata e automaticamente viene ereditata dalle partizioni che vengono agganciate a questa tabella automaticamente possiamo creare foreign key che vanno dalla tabella partizionata ad altre tabelle o il viceversa l'unica limitazione è che al momento non è possibile creare le foreign key di tipo invalid che sono molto comode perché io creo delle foreign key senza fare la validazione e poi le valido a posteriori quindi aggiungere delle foreign key su tabelle partizionali gross partizionate grosse richiede magari anche del tempo perché deve fare tutto il processo di validazione è un lock invasivo però parte quello devo dire che è veramente un gran lavoro vi faccio vedere rapidamente come si può fare un range partitioning Postgres supporta sia il range partitioning quindi ogni partizione ha un range definito di dati list partitioning quindi liste di dati da impostare nelle partizioni oppure un hash ovvero vado a costruire un modulo che poi viene verificato partizione per partizione se il dato non è compatibile con la partizione e non ci sono partizioni che possono ricevere questo dato Postgres da errore a meno di non utilizzare la cosiddetta catch all partition ovvero la default partition vi faccio vedere anche questo come si crea una tabella partizionata allora create table uguale come per qualsiasi cosa ma aggiungiamo la clausola partition by scusate partition by in questo caso range di chiave di partizionamento che deve essere chiave primaria se invece vogliamo partizionare secondo campi che non sono parte che non sono parte della chiave primaria non abbiamo altra scelta che renderli parte della chiave primaria quindi possiamo creare una chiave primaria composita su più campi il campo del criterio di partizionamento deve essere parte della chiave primaria altrimenti vi da errore purtroppo c'è questa limitazione deve sapere l'univocità per poter poi distribuire i dati poi alla fine Postgres impone questa cosa qui quando avete creato la tabella così non la potete usare perché la tabella partizionata è sempre vuota per definizione il dato va a finire nelle partizioni che sono agganciate a questa tabella e le partizioni le aggancio con questa sintassi qui create table partition off di quale è la partizione e per quali valori vado a inserire all'interno della mia partizione poiché questa è per range io devo definire il lower e l'upper limit quindi in questo caso la partizione da 0 a 1000 la partizione da 1000 a 2000 la partizione da 2000 a 3000 il upper limit attenzione perché non è inclusivo quindi la 1000 la 1000 in realtà accetta da 0 a 999 e così via poi c'è l'ultima partizione che mi sposto perché se no non la vedete la partizione di default ovvero dove non vado a definire il range ma vado a dire semplicemente default ovvero tutto quello che non entra dentro queste buttamele qua dentro si possono ridistribuire i dati non ve lo faccio vedere in questo caso però comunque si può fare una ridistribuzione a posteriori non è agevolissima ma si fa e però la cosa interessante è che si può creare un sistema che non vada a dare errore in caso di partizioni che magari mancano quindi ha una sua utilità anche in questo caso inseriamo i dati quindi insert into generate series e il risultato è una roba di questo tipo ovvero 72k per ogni partizione e la catchall si è pigliato praticamente la maggior quantità di dati quindi è più grande limitazioni di questo tipo su partizioni ovviamente le check sono sempre ereditate dalle partizioni quindi se io definisco delle constraint sulla partizione automaticamente ce l'ho ereditata su quella più in basso i dati sono sempre presenti nelle partizioni e mai nella partizione principale quindi è sempre vuota quindi se io lancio un truncate only sulla tabella partizionata che dico truncami soltanto la tabella partizionata quella è vuota e dà errore mentre l'ereditarietà permette di creare tabelle che ereditano campi da una tabella e aggiungere anche campi aggiuntivi nel partizionamento solo i campi della tabella di partizione possono essere ereditati dalle tabelle partizionate sotto di esse quindi c'è quest'ulteriore limitazione l'ereditarietà si usa quando il dato magari deve essere organizzato secondo una logica fisica che va a rispecchiare magari l'esempio più classico è regioni province comuni quindi la regione che poi viene ereditata dalle province e poi viene ereditata dai comuni quindi aggiunge campi che sono già presenti questo è il senso poi dell'ereditarietà domanda stupida partizionamento del partito che si può fare per i t si può fare anche per dimensione dimensione in che senso dimensione della tabella diciamo spostamento relativo allora lì la dimensione la devi calcolare lì in realtà il trucco è questo quello che conta tanto è come voglio partizionare i dati del tipo se io ho una tabella che magari mi va a memorizzare dei dati che sono organizzati per data a quel punto te partizioni per giorno mese anno se invece c'hai dei dati che magari sono dei UID a quel punto te utilizzi un hash partition almeno distribuisci i dati in maniera univo ben distribuita su tutte le parti quindi devi un attimino fare buon viso a cattivo gioco quello è no non c'è una costruzione per esempio dinamica raggiunto il limite no quello non è ancora stato questa sarebbe una grandissima bella roba ah guarda se sei programma in C e puoi contribuire ma è un po' tosta però potrebbe essere veramente una gran bella roba da aggiungere effettivamente credo che forse click house fa una roba simile ma click house non c'è nulla che vede con postgres legge e scrive il protocollo di postgres ma non fa una cosa di questo tipo comunque siamo arrivati alla fine di questa presentazione l'ultima parte era sì non è possibile eliminare la not null su una partizione se è definita a livello di parentevolo ovviamente questo è un simpatico gabbiano che ho fotografato invece a Brighton perché sono stato anche lì a viverci sulla costa sulla manica wrap up postgres è un gran bel prodotto c'ha ovviamente i suoi punti deboli ma utilizziamolo ovviamente nella maniera proper e soprattutto vi invito assolutamente a entrare in contatto con la comunità perché sono veramente simpatici al di là di tutto sono persone veramente ganzissime e vi tendono sempre una mano quando c'è da magari da chiarire qualcosa o comunque è ovvio che se vi fanno il lavoro vi chiedono vi staccano fattura lo faccio anch'io voglio dire però se c'è da dire aspetta non riesco a far partire il db fammi vedere un attimo che errore ti dà poi è normalissimo è assolutamente dovuto perché comunque è un prodotto che si vive della sua comunità queste poi praticamente le slide le metterò su poi le condivido su le metto su speaker deck poi ve le condivido tra l'altro devo aggiornare proprio quella parte della chat questa è la mia simpatica amica Pinkie Pie faccio coming out sono un broni mi piacciono i poni le mie chitarre le ho chiamate tutte con i nomi di pony quindi questa qui è Pinkie Pie domande prima di a questo punto un pochino un attimo di pazzo e poi passiamo alla parte successiva in realtà le ha fatte tutte lui quindi no ma va bene voglio dire alla fine è anche divertente va benissimo assolutamente posso si staccare a prendere un po' l'acqua eh quella non sarebbe una cattiva idea che parlare tra l'altro c'è il rischio che bene finiamo quindi finiamo questa qui e poi passiamo a quella successiva quindi ctrl c giusto controlla se non mi son perso la finestra ah no lui fa il cattura giusto quindi non dovrebbe lo sto catturando perché praticamente è Allora con questo ci colleghiamo proprio al discorso che stavamo facendo durante la pausa che è il discorso del come gestirsi i dati se decidiamo di andare via dai cloud managed database ovvero come gestire l'alta disponibilità, come gestire il disaster recovery Questa qui la presentai per la prima volta all'incontro DevOps Italia tra l'altro è una conferenza molto bella che si fa ogni anno a Bologna se siete interessati al DevOps è veramente ganza tra poco è organizzata dal GRUSP, un'associazione che si occupa di conferenze open source in Italia che gestiscono di tutto e di più poi tra un po' dovrebbe uscire poi la registrazione quest'anno io ci sono stato a parlare di ZFS e Postgres tra l'altro parlando proprio di comunità e del nostro amico Microsoft che adesso ama tantissimo Postgres io praticamente contribuirò alla conferenza POSET l'ho messo anche sui canali del NALUG che è una conferenza aperta quindi entrate nel Discord e ve la seguite pari pari i talk sono pre-registrati e io parlerò proprio di sta roba Postgres e ZFS ovvero come avere la botte piena o io creare ma oggi parliamo invece di, perché è il motivo per cui non vi parlo di sta roba quindi ve la potete tranquillamente recuperare poi me l'hanno messa la mia 12 di giugno è lo stream del 12 di giugno sono due stream, uno friendly per la timezone pacifica e un altro invece per la timezone europea visto che è una conferenza full remote allora, protecting your data con Patroni PG Backrest parleremo praticamente di un po' di cose ovvero alta disponibilità e come fare in modo di avere un'alta disponibilità senza avere tutti i side effect brutti tipo lo split brain e Patroni ci aiuta in questo e come avere un disaster recovery che poi parli con questo signor Patroni quindi intanto questi sono messo delle immagini del mio film amato di Tron che devo dire Tron Legacy manca una cosa in Tron Legacy la luce che c'è in Tron Tron rende veramente il mondo digitale una cosa meravigliosa allora, greetings program parliamo dei nostri programmi e di quelli che sono gli attori poi di questa presentazione ovviamente Postgres è quello che abbiamo visto alla presentazione precedente ovvero Enterprise Cluster DBMS, ESID Compliant supporta alta disponibilità e disaster recovery ovvero manualmente parlando io posso mettere in piedi un'alta disponibilità con uno standby, un hot standby, un warm standby oppure posso avere un disaster recovery faccio il dump logico del DB piuttosto che faccio un dump fisico del DB con il DB in funzione e l'archiviazione dei log delle transazioni un po' una roba di questo tipo e si fa con un piccolo problema però tutta la parte di automazione di questa roba non esiste quindi è tutto lasciato al buon cuore alla disponibilità, alla capacità poi del DBA di turno io mi ricordo che prima di avere a disposizione questi strumenti io mi sono fatto uno shell script che era qualcosa di migliaia di righe di roba che faceva tutto, anche il caffè poi ho scoperto che effettivamente BYOT bring your own tool non è assolutamente un'ottima idea anche perché adesso abbiamo roba anche migliore del summoning di Trulu quindi assolutamente quindi scordatevi il discorso manuale io quando faccio i corsi di formazione su Postgres ne parlo, lo spiego poi arriviamo alla fine e dico cancellate tutto, non usatelo e usiamo invece quest'altro prodotto e il prodotto in questo caso nel caso del del auto failover perché di questo stiamo parlando quindi alta disponibilità ce ne sono quanti ne volete c'è Red Manager c'è il PG Auto Failover c'è il PAF Postgres che sembra un filtro antiparticolato quasi come nome Postgres Automatic Failover oppure nel nostro caso Patroni tra tutti io preferisco Patroni per tutta una serie di motivi sono di parte anche perché sviluppato in Python e quindi diciamo che posso andarmi a leggere i sorgenti magari capire anche se c'è qualche errore e eventualmente non ho ancora contribuito però magari qualche aiuto posso pure darlo se necessario che cos'è Patroni? Patroni è stato sviluppato da Zalando quello che vende le scarpe quella Zalando credo che sia derivato principalmente dal fatto che loro fossero passati poi in cloud gli aggiornamenti delle macchine erano soggette al restart non controllati da loro questo è uno dei contro dei contro dell'essere in cloud se l'aggiornamento del sistema operativo viene attivato in automatico perché c'è una CV e quindi ve la dovete beccare la macchina si riavvia e voi non ci potete fare nulla al massimo potete definire una finestra di tempo del tipo dall'1 alle 4 del mattino se devi riavviare poi arriva a riavviare in quel momento poi quando viene riavviato non si sa il risultato è che hanno avuto problemi di split brain ovvero il primario andava giù poi facevano lo switch over il primario ritornava su cominciava ad accettare scritture problematiche molto importanti a quel punto si sono messi e hanno sviluppato questo prodotto ovvero un sistema che quando il primario va giù passa automaticamente ad un secondario lo promuove a primario e quando il vecchio primario torna su è intelligente e si aggancia come diventa secondario vantaggi e altre cose simpatiche di patroni è sviluppato in python e ho detto sono di parte sono sviluppatore python non mi considero un programmatore sono semplicemente un amatore perché comunque il mio lavoro non è quello di sviluppare tutta la parte di gestione di quale sia il primario è fatta utilizzando un DCS un distributed configuration store e anche le configurazioni di Postgre stesso supporta etcd, console e zookeeper questi qui sono nell'ordine mia di preferenza i nomi principalmente etcd perché è un prodotto molto semplice da configurare molto lightweight quindi se non avete esigenze particolari si usa quello console ha anche funzionalità di DNS dinamici cpp floating ip quindi va bene zookeeper è fatto in java ci ho avuto a che fare mi ci sono bruciato non lo amo particolarmente non credo che lo userò mai più nella vita ma comunque se lo avete in funzione potete usarlo tranquillamente per memorizzarvi la vostra roba supporta anche un python raft nativo ma ci ho messo un bel frego sopra perché nessuno lo ama si utilizza un modulo già il nome è brutto pi5bj non lo riesco mai a pronunciare bene non è presente in alcune distribuzioni in altre è troppo vecchio in pratica alla fine non è mai piaciuto a nessuno nessuno l'ha mai usato ci ho provato anche da usarlo ma non l'ho mai fatto funzionare utilizziamo un DCS che forse è la cosa migliore spezzare i servizi è un'ottima idea comunque sempre quando abbiamo bisogno di eliminare i single point of failure anche perché poi questi servizi sono normalmente distribuiti il patroni però ha una caratteristica bisogna cambiare completamente il proprio punto di vista rispetto a come si lavora normalmente con le istanze in pratica lui prende in carico le istanze e gestisce tutto per esempio il bootstrap di una istanza con l'inizializzazione anche dell'area dati la fa lui può fare un'inizializzazione partendo da un backup ma bisogna dirglielo e vi faccio vedere anche come l'automazione di failover switchover se il primario va giù automaticamente lui dopo un tempo x che viene configurato quindi un time to leave del token acquisito dal primario a quel punto elegge un nuovo primario quindi lo switchover, il failover lo fa in automatico la configurazione, questa è molto importante è completamente centralizzata nel dcs quindi tutta la parte di configurazione di postgres non viene più fatta sul file di configurazione di postgres ma viene scritta nel dcs e poi patroni penserà ad applicarla alle istanze e eventualmente a dirvi aspetta ma questa istanza deve essere riavviata per applicare magari una modifica alla memoria che richiede un riavvio è estremamente resistente allo split brain di fatto è molto, veramente cioè quando il primario va su si accorge subito che lui non è più primario quindi automaticamente si spegne e ricomincia poi si riconfigura per diventare secondario quindi lo split brain non dico che è impossibile perché l'impossibile non esiste ma è altamente improbabile inoltre combinandolo con haproxy haproxy può interrogare le rest api di patroni per direzionare la connessione quindi si crea un punto di ingresso con haproxy e haproxy sarà sempre qual è il primario a cui collegarsi perché patroni glielo dirà quindi è una figata pazzesca i caveats ve l'ho appena detto è tutto gestito da patroni dobbiamo modificare una configurazione dobbiamo interagire con patroni dobbiamo modificare una riga di pg hba dobbiamo modificarla su patroni magari il file di configurazione ma dobbiamo farglielo fa lui se lo facciamo in maniera manuale patroni sovrascriverà le configurazioni che abbiamo modificato in manuale la documentazione certe volte può essere non particolarmente chiara però devo dire che la comunità come al solito è estremamente collaborativa e aiuta tantissimo in più sta migliorando con il tempo diciamo che forse la parte meno chiara che mi ha fatto soffrire tanto è configurazione di uno stand-by cluster su zone di disponibilità diversa su AWS dove avevamo una zona in una regione dell'Europa un'altra zona in un'altra e quindi avevamo un patroni cluster attivo con un primario e dall'altro lato avevamo un set di stand-by che pigliavano i dati dal patroni attivo pronto in caso di meteorite sulla zona primaria per essere poi promosso a patroni primari quindi diciamo che l'idea era quella e funzionato molto molto bene però ci sono stato in pratica un paio di giorni per cercare di capire il funzionamento tutto qua un altro svantaggio per certi versi è che il client per interagire con patroni è solo di tipo interattivo ovvero io devo lavorare cioè quando faccio la modifica mi apre la diff devo confermarla e così via quindi se voglio automatizzare la cosa o utilizzo CURL e ci sono un po' di esempi per andare a scrivere sulle rest utilizzando l'expost piuttosto che altre cose oppure utilizzare uno l'URI module di Ansible io in quel caso ho utilizzato lo URI ovvero mi leggo il JSON perché anche qui parliamo di JSON mi leggo la configurazione ritornata come JSON la modifico e poi gliela riscrivo dentro sempre tramite un modulo URI questo è un sistema a quel punto tutto funzionato tranquillamente e sono riuscito a automatizzare il discorso che vi ho detto poco fa ovvero le due zone quindi promozione e magari switchback alla zona di automazione passiamo invece al discorso disaster recovery ovvero come salviamo i nostri dati in modo da ripristinarli dopo che ci ha beccato un meteorite in testa sulla nostra data center ecco quello che si faceva a suo tempo è logical con pgdump ora in realtà si usa molto poco pgdump perché pgdump è un backup logico è uno snapshot quindi non implementa il point in time recovery del tipo si facci backup ma tutto quello che dal momento in cui è iniziato il backup a quando poi mi perdi il dato non è loggato non è salvato quindi devo fare in modo poi di fare una replay dei dati quindi non è fisico quello che si usa adesso utilizzando il salvataggio dei file fisici con i log delle transazioni si può utilizzare pgbase backup che è un tool che fa la streaming replica dei file fisici direttamente dalla connessione postgres c'è barman che è un prodotto fatto in python ma non lo amo particolarmente principalmente perché con macchine con sistemi molto grossi tende ad avere molte difficoltà quando soprattutto in fase di ripristino fatica tanto si wall-e wall-g che è l'evoluzione prima wall-e poi è stato fatto in go anche questo è interessante ma c'ha qualche problemino soprattutto quando parliamo di backup da stand-by e pg backrest ecco pg backrest è un tool che nasce in perl ma poi si è evoluto in c interessantissima cosa è stato sviluppato a suo tempo da una compagnia che se non rimette male è cranchi data ma adesso è stato passato completamente sotto il controllo della comunità di sviluppo e in realtà si rimane comunque l'autore principale ma adesso la gente ci lavora in maniera molto ed è ovviamente open source è un tool di backup fisico implementa alta disponibilità anche lui in realtà si può anche configurare per creare degli stand-by pg backrest però normalmente si utilizza ecco padroni il suo lavoro è disaster recovery la cosa interessante è che i backup di pg backrest possono essere anche incrementali e differenziali quindi di fatto io parto con un backup completo dell'area dati e poi vado a salvare solo quello che viene modificato magari dall'ultimo backup full oppure dall'ultimo backup qualunque esso sia quindi vado anche a salvarmi i dati in più sono compressi ogni file salvato supporta anche il check sum del file in modo tale da essere sicuri che le copie avvengano è molto molto solido e supporta anche l'encryption at rest ovvero si può addirittura criptare l'intero repository con una chiave di criptazione ora non mi ricordo l'algoritmo comunque è una chiave pre-shared sostanzialmente non niente di sofisticato come gpg supporta il backup in parallelo quindi si possono lanciare job paralleli per salvare file quindi molto performante e può fare il backup dagli stand-by quindi io ho il primario che scrive i dati però lui si copia quattro file piccolissimi dal primario e poi tutto il resto lo salva dallo stand-by perché lo stand-by di fatto è una copia fisica del primario quindi non c'è bisogno di dire magari c'è roba diversa i dati sono tali e quali che non è un vantaggio quando si ha la corruzione poi magari del dato a livello di blocco perché anche la corruzione poi viene passata a livello fisico sugli stand-by quindi questo è uno dei motivi per cui di solito io comunque pg-dump non gli dico mai di no pg-dump me lo tengo sempre come proprio piano z del tipo se ho corruzione di qualche tipo almeno una parte dei dati li posso ripristinare a livello logico la synchronous wall push and pull è molto interessante perché anche con database che scrivono tanto c'è la possibilità di mandare questi file delle transazioni sui repository ma c'ha qualche svantaggio questo che ve ne parlo tra un attimo quando è stato sviluppato inizialmente vi parlo ormai di quasi dieci anni fa è nato come uno script in perl poi man mano che le richieste crescevano soprattutto a livello di performance pezzi sono stati scritti in C e alla fine adesso abbiamo un unico un monolite di C in C che viene distribuito non ha dipendenze di librerie tutto self-contained quando installate pg-backrest avete solo l'eseguibile fine e gira pulito basta solo avere l'architettura compatibile quindi little endian x86 o ARM o quello che è quindi compilato va bene e comunque la configurazione in ini style mi piace tantissimo a differenza purtroppo dei padroni che utilizza YAML YAML per i dislessici come me è una bomba atomica perché faccio molta fatica a distinguere gli spazi io vorrei tanto che usassero i tab io amo i tab anche per quello perché faccio fatica a vedere lo spazio in più che magari mi rompe un file YAML pace questo invece è in ini style è supportato il presente in ogni repository supporta cloud backup option gcp s3 e azzur quindi potete salvare direttamente sui bucket direttamente dal vostro sistema è ovviamente minio se avete un minio che è l'implementazione open source di s3 anche quello supportato tranquillamente si possono avere fino a 5 repository distinti configurati sul singolo backup distanza e praticamente quindi io posso salvarmi i dati in locale i dati su un bucket i dati su un bucket all'altro lato dell'atlantico se mi capita un asteroide che mi fa fuori tutta l'Europa a parte il discorso che non ci sarà nessuno ad averne bisogno però almeno i dati sono salvati al di là dell'atlantico quindi e viene tutto gestito in automatico da pgbackrest l'altra cosa che mi piace è che il repository è condizione sufficiente per ripristinare i dati ovviamente avendo il binario pgbackrest non c'è nessun tipo di salvataggio extra tipo un per esempio barman utilizza un SQLite per salvarsi il catalogo del backup pgbackrest basta prendere il repository e quello ci serve per ripristinarci i nostri dati ovviamente ci sono sempre dei contro e il contro è il backup via SSH può essere complesso perché l'SSH deve essere passwordless l'utente deve essere tal dei tali deve essere in grado di collegarsi al DB senza password bisogna lavorarci un attimo però funziona molto bene c'è da dire che hanno implementato un server TLS per semplificare una parte di queste configurazioni però si è basa su systemd e quindi magari si passa dalla padella alla brace di systemd io non l'ho ancora guardato per bene anche per quello perché effettivamente insomma attenzione quando si fa la configurazione asincrona se si supera un certo valore di coda memorizzata sullo staging prima che poi venga mandato il log delle transazioni sul repository pgbackrest dice io ho archiviato però poi non archivia vi rompe la sequenza dei wall e quindi vi rompe il ponte in time recovery ma è meglio così perché se la sequenza dei wall arranca dietro l'archiviazione e si riempie il db il database vi va in crash quindi meglio perdere una sequenza di wall che poi ritrovarsi con un db che va in crash e magari non riparte perché il disco è pieno perché se il disco è pieno il db non riparte quindi non è una bella situazione quando cresce per quel motivo e la rule of thumb rtfm read the funny manual siamo in registrazione quindi non voglio metterci tutti l'opio tra l'altro prima della pandemia feci proprio una presentazione al Fosdem 2020 che il titolo era proprio rtfm ovvero se andate sul sito del Fosdem trovate la registrazione ovvero come incasinarsi la vita non leggendo il manuale mi ci metto anche io perché anche io ho fatto disastri quindi ci siamo tutti nella solita barca tra l'altro qui c'è un link a una presentazione di uno degli autori di uno dei contributor di PG Buckrest Stefan Fercot questo qui è del Postgres dei Russia del 2018 se non ricordo male e praticamente lì lui fa spiega un po' di topic molto avanzati di PG Buckrest quindi ve lo consiglio assolutamente questo è un link un link cliccabile quindi quando ci saranno poi le slide scaricabili lo potete cliccare tranquillamente allora vediamo un attimo come funziona patroni prima di andare poi nell'inferno di PG Buckrest questa qui l'ho fatto io quindi non so disegnare l'ho disegnata così con una tavoletta grafica e con coso come si chiama calligra così qual è la struttura di patroni questa qui che cosa è super bias quindi manca un sacco di roba ma l'idea è io ho tre macchine Postgres che si chiamano patroni 1 patroni 2 patroni 3 su ogni patroni io ci vado a mettere un nodo etcd configurati per parlarsi l'uno con l'altro perché 3 perché devono essere sempre in grado di alleggere un nodo di leader quindi devono essere sempre di sparigli etcd quindi può essere 1 può essere 3 può essere 5 7 più ce ne sono ovviamente meglio è sono tra l'altro dei servizi molto leggeri che possono sopravvivere tranquillamente con il sistema su patroni ogni patroni quindi gestisce un Postgres e configura la streaming replica la streaming replica è la copia dei blocchi fisici utilizzando la connessione SQL che è una delle caratteristiche di Postgres introdotta con Postgres 9 ormai almeno 10 anni fa stiamo parlando ed è una figata pazzesca perché posso copiarmi i wall ma posso copiarmi anche i file fisici quindi pgbase backup che poi è quello che viene usato di default da patroni per creare le repliche utilizza proprio questa tecnica stream i file fisici su una connessione SQL e questo succede i wall che sono i log delle transazioni man mano che vengono scritti qui vengono replicati prelevati dai vari dai due DB attraverso la streaming replica e replicati a livello fisico per ogni DB e tutto va bene perché io ho le connessioni che vanno dentro sto patroni e questi altri due patroni sono lì pronti per diventare primari in caso mi dovesse perdere il primo e quindi abbiamo in questo caso tra l'altro c'è poi il link a questo esempio in particolare su GitHub con l'open tofu l'ho cambiato proprio stamattina da terraforma open tofu per fare la deploy delle macchine e c'è anche un Ansible che fa il lavoro di configurazione di questa roba quindi ve lo potete guardare tranquillamente quindi creiamo tre macchine patroni 0, 1 e 2 e di fatto facciamo la deploy delle macchine installiamo il tcd sui nodi configuriamo e avviamo il tcd avviamo installiamo postgres 14 in realtà devo aggiornarla al 16 ma comunque voglio dire 14-16 il sistema è sempre il solito configurare patroni avviare patroni e profit di fatto una volta che avete eseguito questi elementi e l'ansible play che trovate su quel repository fa proprio questo arrivate alla configurazione completa questo qui è un esempio di un open tofu per i nodi che praticamente va a fare la deploy non sto ad entrare nel dettaglio comunque di fatto va a produrre delle macchine in questo caso su gcp quindi google cloud non mi ricordo mai la p che cosa significa rocky linux 8 poi adesso c'è la rocky linux 9 devo dire che sono molto interessanti configura anche tra l'altro questa roba qui anche l'ssh config e il repository di ansible direttamente dagli ipd tirati via dalla deploy di terraform quindi molto molto comodo anzi con il pentofo configura i firewall e così via una volta fatto questo poi c'è l'ansible che fa il lavoro effettivo vi faccio notare anche le porte che vengono aperte sul firewall in questo caso abbiamo la 22 da 5 4 3 2 6 4 3 2 8008 23 79 23 80 non sono numeri da giocarsi all'otto ma 22 ovviamente ssh questa è la porta di postgres questa è la porta di haproxy che farà da servizio postgres o viceversa in realtà haproxy ascolterà sulla 5 4 3 2 e postgres andrà a lavorare sulla 6 4 3 2 perché haproxy idealmente qui non è previsto in questo esempio però idealmente io lo potrei andare a mettere sulla stessa macchina di postgres mi collega a una delle tre in maniera assolutamente indipendente poi haproxy mi manderà sul primario quindi posso fare la simulazione di postgres le altre questa è la porta di ascolto delle rest api di patroni queste due sono le porte per etcd il publisher del cluster e il list and addresses per poi il servizio raft a questo punto configuriamo etcd questo etcd lavora principalmente come a variabili di ambiente perché systemd con i file di inizio e di configurazione non è che lavori particolarmente bene quindi di fatto esportano queste variabili di ambiente e poi lanciano il processo dall'unità systemd tutto qua e qui abbiamo dove andiamo a mettere i dati le porte questo tra altro manca tutta la parte di sicurezza quindi lavori in http la configurazione in attacca ttps di sta roba non è particolarmente triviale è una roba è stata tosta per farla però ci sono riuscito è stato un cliente che ne aveva bisogno ma veramente è stato ci ho battuto la testa per una settimana prima di arrivare ad avere un sistema funzionale soprattutto perché lì non avevo accesso ai loro sistemi quindi dovevo essere io in screen share a indicarli quindi con tutte le complicazioni peraltro ovviamente in inglese quindi tutte le complicazioni del caso questa qui è la unit file per avviare l'etcd una normalissima unit file che fa lanciare questa cosa una volta avviato l'etcd sistema a tre nodi si parleranno costruiranno il cluster a quel punto i tre etcd con questo comando poi dipende anche dalla versione di etcd perché hanno cambiato anche le API quindi non è validissimo questo questo vale credo sulla versione 2 delle API vi risponderà con una roba di questo tipo ovvero parlo con tutte e tre i nodi e riesco a scriverci una volta fatto questo possiamo passare al nostro amico patroni perché patroni utilizzerà questa roba per scriverci roba dentro allora prima di patroni però dobbiamo installare Postgres i binari di Postgres che nel caso di Ubuntu si tratta di seguire le istruzioni del sito web di Postgres si installa un pacchetto che poi installa il repository installiamo Postgres 14 o 16 o quello che è si sono supportate versioni major diverse per singola istanza quindi io posso avere una 14 una 16 una 15 basta che abbia porte diverse posso tenerle in funzione senza problemi e risorso ovviamente dopodiché per installare patroni soprattutto per Rocky 8 è necessario installare la release IPL che aggiunge librerie all'interno dell'ecosistema di Red Hat e poi un banale DNF install patroni patroni e TCD nel caso di Debian cambia ovviamente nel Debian non c'è la Apple ovviamente in Debian Debian Ubuntu basta installare semplicemente patroni apt-get install patroni dopo aver configurato il repository Debian PGDG quello lì del Global Group se no vi beccate una roba vecchissima perché sono quelli lì distribuiti poi con la vostra distribuzione non fatelo perché c'è il rischio poi che la giornata la distribuzione cambia Postgres dopo non vi parte più il macello dopodiché configurazione con il mi sposto così sicuramente si vede tutto configurazione con il discorso che è in YAML quindi bisogna intanto definire scope e namespace che sono i nomi del cluster e dove andare a scrivere nel DCS perché il DCS di fatto si comporta come una directory come un sistema a fare il sistema distribuito e quindi questa è la directory dove verrà scritta poi la configurazione il nome del nodo che è univoco dove andiamo a mettere i log dove facciamo ascoltare le reste API e vi vedete questa qui è la porta 8008 quella lì famosa aperta sul firewall inoltre etcd può essere sia configurato per lavorare con la versione 3 delle reste API oppure la versione 2 se utilizzate un etcd nuovo avrete una versione 3 quindi qui andrà specificato etcd 3 altrimenti etcd è basta questo è solo per patroni per sapere come deve parlare con etcd vecchio o nuovo tutto qua in questo caso etcd 3 e poi si fa la lista degli host che deve andare a contattare su etcd usando la porta 2379 quella famosa sempre aperta sul firewall poi qui andiamo a definire i time out di patroni ovvero 10 secondi che mi perdo il primario e a quel punto passo a promuovere un secondario a diventare primario si possono configurare tutti ovviamente la cosa interessante è che dopo che ho inizializzato il primo nodo di patroni sta roba non viene più letta dal file di configurazione ma è scritto nel dcs quindi se devo cambiare questi valori che applicano ovviamente a tutti i membri dei patroni devo andarli a scrivere in etcd o zookeeper o console e lo faccio con le utility di patroni oppure devo farlo con il modulo uri continua il nostro amico yaml quindi qui il maximum lag on failover è molto importante perché ovviamente le repliche sono asincrone e la replica asincrona significa che lo standby può avere del lag che viene misurato in byte normalmente quindi io posso definire se sto standby ha più di 104k di lag non considerarlo per il failover perché c'è troppa roba in mezzo tra il primario e il secondario non mi voglio perdere in pratica è la misura di quanti dati mi voglio perdere se faccio failover praticamente la misura massima dei dati che mi posso perdere se faccio failover c'è anche la possibilità di fare standby fisici ma lì andiamo a finire come dicono in Toscani in un ginepraio non da poco quindi non ve ne parlo di questa roba utilizzo dpg rewind per fare il remastering senza dover inizializzare da capo l'area dati più altre cose e questi invece sono i parametri di configurazione di Postgres questi sono i parametri che sono nel file di configurazione di Postgres ma si trovano in formato YAML mentre in Postgres la scrittura del parametro è nome parametro uguale qualcosa qui abbiamo YAML quindi dobbiamo metterlo come un dizionario YAML tutto qua questa roba anche questa roba viene scritta nel DCS dal momento in cui inizializziamo con il DCS tutto il controllo dei questi parametri va fatto interagendo con il DCS tutto qua il metodo di inizializzazione del primo nodo in IDB significa inizializzami l'area dati e poi altre cosucce tipo encoding dell'area dati l'utilizzo dei data checksum durante la fase di inizializzazione il pghba non so se lo conoscete pghba è la bestia nera di Postgres il pghba il file di configurazione si chiama host based da autentication in pratica è una sorta di firewall interno a Postgres che in base ai parametri dell'host di connessione nega oppure applica un metodo di autenticazione al database quindi tutta la fase di configurazione di quella roba che è anche parecchio spinosa in determinati casi ma si può fare anche autenticazione su LDAP su Active Directory se ce l'avete si fa a livello di pghba e quindi tutte queste configurazioni si spostano dal file pghba.conf e vanno a finire anche loro dentro il dcs in questo caso è una lista di elementi che poi descrivono la singola riga di questo file poi abbiamo le configurazioni per singolo nodo perché normalmente le configurazioni scritte nel dcs possono essere sovrascritte dal singolo nodo quindi eventualmente possiamo fare un override per nodo autenticazione questo attenzione perché le password sono scritte in chiaro in questo file quindi devono questo file deve essere accessibile soltanto dall'utente che fa girare i postgres quindi chmod e purtroppo anche pgpass funziona così quindi per forza di cose l'unica cosa che si può fare magari si evitano le password qua dentro si mette un pgpass un file che automatizza la somministrazione della password a postgres che è un attimo più sicuro però comunque il pgpass lo usa anche questo qui anche patroni poi alla fine lascia il tempo che trova meglio rendere sicuro questo file e siamo sicuri che nessuno si farà del male purtroppo questo è un problema spinoso che non è stato ancora risolto magari mettere degli hash piuttosto che password purtroppo le password vanno passate in chiara allora prenderlo da un key vault credo che ci sia qualcosa ma deve essere automatizzato a livello di pgpass non è implementato purtroppo credo che forse le ultime versioni di patroni dovrebbero averci una roba simile però va testato magari guardatevi per bene magari nella documentazione l'hanno messo credo ne avessero parlato di sta roba ma non so quanto sia stata implementata dopodiché ci sono un po' di tag e altre cose quindi a questo punto creiamo la nostra unit file e con ovviamente questo è semplicemente l'esempio della unit systemd e quindi daemon reload systemctl enable patroni systemctl start patroni nel momento in cui patroni è avviato a questo punto che cosa fa patroni intanto guarda dove è l'area dati perché tra le tante configurazioni dobbiamo anche dire dal patroni dove vuoi andare a scrivere quest'area dati di postgres se l'area dati è vuota patroni dice ok l'area dati è vuota applico il metodo di bootstrap quindi fa girare in idb si collega etcd scrive il token del primario dentro etcd e ogni tot rinfresca questo fa un refresh di questo token quindi è sempre patroni che scrive in etcd quindi se io mi perdo il primario non è che perdo anche il metodo di controllo del token semplicemente il token scade tutto qua ed ha una vita molto breve 10 secondi di default a questo punto con il comando patroni ctl passando il patroni haml di configurazione lancio il comando list lui legge l'rstapi e mi fa vedere che c'è un leader running con un po' di informazioni tra cui la timeline che sono roba alla doctor who quando avvio poi i patroni sugli altri stand by sull'altre macchine le macchine cercheranno di acquisire il loro token perché inizialmente avranno un'area dati vuota ma trovando già il token occupato da patroni uno diranno ok io divento una replica diventando una replica a quel punto lanciando il comando pg base backup streamano i blocchi fisici dal patroni uno al patroni due si auto inizializzano e diventano repliche con lo stato di running e qui ti fa vedere anche il lag in megabyte rispetto al primario quindi man mano che il primario scrive questi valori sono zero perché sono degli esempi ma quando ci si scrive dati questi valori di solito sono leggermente diversi da zero non tantissimo ma magari c'è sempre un po' di lag di reti a questo punto parliamo di pg backrest ovvero qui abbiamo parlato di streaming replica dei val file quindi sempre val generati i log i retransaction log generati sul primario e copiati in tempo reale pg backrest in realtà non utilizza questo meccanismo ma utilizza un meccanismo più vecchio che è l'archiviazione del log del val file del log delle transazioni quindi quando il val file non è più in uso entra in funzione un comando che può essere qualsiasi cosa in questo caso è pg backrest pg backrest prende quel val e lo copia all'interno del backup repository facendoci delle cose comprimendolo controllando il checksum in questo caso in questo esempio viene scritto in un gpc bucket quindi in una un bucket di rete perché nel bucket di rete perché magari io mi perdo tutte le macchine ma mi basta il mio bucket di rete per ripristinarmi in un colpo solo anche in questo caso installiamo pg backrest sui server patroni perché va installato su ogni patroni server perché non sappiamo quale sarà in esercizio per fare l'archiviazione creiamo il gpc bucket creiamo un nuovo servizio vabbè quello poi c'è tutta la la logica di gpc quindi per dare accesso al gpc bucket salviamo la chiave d'accesso che è un json nel caso di gpc poi s3 è diverso in questo caso gpc configuriamo pg backrest per usare gpc e dopodiché con patroni che usa pg backrest salviamo il nostro primo backup e abbiamo anche il disaster recovery in funzione e anche in questo caso vi faccio vedere la configurazione di pg backrest pg backrest ha una configurazione in style che è composta da una sezione global che definisce le variabili a livello globale del nostro sistema e poi abbiamo le cosiddette stanze il nome stanza in inglese non significa stanza ma significa strofa strofa di poesia anche se poi parlando proprio con stefan mi ha detto guarda noi non pensavamo alla poesia però io effettivamente è un pezzo di strofa che applica la configurazione specifica per quel tipo di backup che sto andando a fare un vantaggio è anche che io posso avere un unico backup repository con stanze di nomi diversi che possono ricevere backup da più sistemi diversi una stanza postgres 16 un'altra stanza postgres 15 e così via e quindi in un unico singolo bucket di rete io posso avere tanti backup diversi e indipendenti gestiti da pg backrest semplicissimo quindi ho un unico repository o più repository se abbiamo una configurazione repository multipli che salvano questi dati ora la configurazione in questo caso specifico intanto io vado a dirgli che tipo di backup sto facendo gcs che è la key per gcp ovvero gcp bucket poi abbiamo dove lo vado a salvare nel bucket perché il bucket ovviamente è una directory di rete giusto quindi la directory dove lo vado a salvare all'interno del bucket dopodiché il nome del bucket questa è una roba che la capiscono soltanto i toscani che hanno letto il vernacoliere grongo 571 è un satellite che compare in una storia di Don Zauker esorcista ecco e questo l'ho chiamato così per omaggiare Daniele Caluri perché lui è un genio un nome così è meraviglioso veramente già proprio ti riempie la bocca grongo 571 poi c'è la configurazione della gcs key quella lì che si scarica da gcp quant'è la retention dei backup full di default pg backrest vi salva tutti i backup full senza cancellarli se non lo fate vi dà un warning che dire guarda io sto salvando tutto quello che mi chiedi di salvare ma prima o poi ti finirà lo spazio quindi magari configura questo piccolo parametrillo qui questo parametro è configurabile nelle ultime versioni anche in termini di tempo ovvero quanti giorni di backup mi voglio tenere lui automaticamente fa espirare il backup full in funzione di questa informazione oppure come in questo caso quanti backup full mi voglio tenere uno quindi arriva alla fine del salvataggio del secondo backup full e butta via quello vecchio quindi è una roba semplicissima log level mentre invece per la parte distanza che guarda casa ha lo stesso nome del cluster patroni per una questione di coerenza ma anche di comodità devo specificare dove si trova l'area dati di postgres che nel caso dell'installazione redatta è varlib pgsql data postgresql seguito dalla versione major ma lo possiamo mettere in dosci pare dopodiché andiamo anche a specificare la porta di connessione del db locale l'utente ma non l'host perché lui utilizzerà una connessione usando il socket unix quando è in locale poi io vado a specificare anche tutti gli altri postgres che fanno parte di questo cluster perché perché io qua ci ho aggiunto questo backup standby ovvero pgbackrest salverà qualche file dal primario tipo il control file più qualche altra cosuccia per le transazioni ma quando il checkpoint sarà arrivato su uno degli standby lui i dati li copierà dallo standby non caricando di lavoro il primario quindi è un gran bel un gran bel vantaggio questo quindi qui io vado a specificare tutti gli standby tutti i cluster tutte le istanze presenti l'unica rottura di scatole è che l'istanza locale non deve avere l'ipg host quindi dovete fare attenzione quando siete in locale se no da errore è fatto così è fatto per collegarsi con lo unique socket però magari le ultime versioni sono diverse è un po' che non lo guardo in questo particolare dettaglio il mio script tensible riconosce qual è il primario qual è il locale ed esclude semplicemente dal template l'host dopodiché per evitare di metterci le password all'interno dei file di configurazione ecco io utilizzo pgpass pgpass è un file che viene utilizzato da postgres per fornire le password anche in quel caso è una roba che va purtroppo in chiaro però non viene utilizzata a meno che non abbia il chmod 600 quindi diciamo che ci impone la sicurezza almeno su quel file dopodiché nel file vabbè in questo caso io vado a creare il file json in modo tale che poi pgpack lo vado a trovare quindi conterrà delle informazioni delle chiavi quant'altro passiamo tranquillamente avanti dopodiché a questo punto io devo dire al mio patroni che sta funzionando come voglio archiviare questi qual file ma io patroni non posso andare a modificare i file di configurazione a mano devo farlo tramite il client di patroni o farlo con la siurli in questo caso lo facciamo col client di patroni e lanciamo il comando patroni ctl con il file di configurazione lo stesso che abbiamo visto prima con il comando edit config lui aprirà il vostro editor di preferenza 99% è nano dei casi è nano purtroppo io lo disinstalla all'istante appena ho una macchina operativa io lavoro con vi anzi vi un amico che lui si occupa di freebsd lui usa vi vecchio stile senza neanche di improvement di vi io sono un attimo meno radicale però voglio dire nano proprio non ce la faccio appena lo vedo mi subito ctrl x ed esco e quindi vi apre il vostro editor e vi fa modificare la configurazione dopodiché una volta salvata l'applica quindi quello che vado a fare nel mio caso è mettere nei parameter di Postgres l'archive command con pc backrest meno meno stanza flin quella che ho nella configurazione archive meno push che significa salvami il wall file sul repository e il percento p è un marcatore che viene sostituito da Postgres con il nome del wall file che vuole archiviare quindi viene fatto dinamicamente poi dal processo Postgres dopodiché controlliamo che dobbiamo creare la stanza quindi lanciamo questo comando ovvero creare la struttura del repository all'interno del gcp bucket e lo si fa con questo comando pg backrest meno meno stanza flin stanza create ora vi ho dato un po' di verbosite in più nel log in realtà è molto scarno lui parte poi vi ritorno ok ho fatto oppure vi da un errore a questo punto mi dice la stanza è stata creata e a questo punto possiamo lanciare il backup con un banale pg backrest meno meno stanza flin backup lui farà quello che deve fare e alla fine di tutto farà anche l'archiviazione dell'ultimo wall e vi dirà sto anche facendo girare l'expire di eventuali full backup che poi devo eliminare alla fine della fiera quando io vado a lanciare poi il comando pg backrest info lui mi farà vedere lo stato del mio backup con i wall file archiviati per mantenere questo backup vivo con il point in time recovery quindi ripristinabile all'ultimo istante salvato con i wall quindi 16 megabyte al massimo si perdono in questa logica perché i wall sono di quella dimensione lì ma la cosa interessante è che il backup che è un'istanza vuota è di 25 megabyte è salvato in 3 megad 2 perché due comprimi quindi sarà un vantaggio non da poco ma possiamo ottenere anche di meglio perché questo salva con l'algoritmo GZip ma le ultime versioni supportano ZSTD ZSTD è una bomba a mano letteralmente ha una compressione migliore di GZip ma performance molto migliore di BZ2 BZip2 e combinato anche con archiviazioni parallele io sono riuscito da un cliente a portare l'object recovery time ovvero il tempo di recupero di un database di 16 terabyte da tipo 48 ore con PG backrest a 6 ore quindi voglio dire se ci si lavora e si fanno un po' di test si riesce ad ottenere delle grazie ovviamente era una roba su un EC2 super carrozzata la macchina che andava a ricevere era della stessa classe la restore era fatta utilizzando ZSTD e un parallelizzato su 20 processi quindi parliamo comunque di una roba che bombardiamo letteralmente le risorse però performance pazzesche che si possono ottenere con questo piccolo prodottino a questo punto abbiamo il nostro simpatico MCP che ci distrugge tutto ci distrugge the grid ci casca un bel asteroide sul nostro data center ci salva il nostro GCP bucket e a questo punto questo faccio sempre ridere gli inglesi con queste affermazioni il backup è quella cosa che andava fatta prima ecco questa è la la frase che dovreste veramente ce la dovremmo tatuare addosso sul braccio così la possiamo leggere costantemente il backup è quella cosa che andava fatta prima ma che cos'è un backup è un salvataggio di dati ma è anche il test che i dati siano ripristinabili ed è anche un salvataggio di dati che non sia sul solito sistema o sul solito data center è un salvataggio off site quindi è un insieme di cose non è che dice vabbè ho salvato ciao addio ma abbiamo perso questi dati abbiamo salvato i dati off site abbiamo fatto i nostri test e siamo ragionevolmente sicuri di poter ripristinare il nostro backup quindi non abbiamo il cosiddetto backup di Schrödinger e quindi come ripristiniamo questa roba beh facciamo gli stessi passaggi che abbiamo appena visto ovvero configurare tcd installiamo pgbackrest installiamo postgres e patroni e configuriamo patroni per non fare il bootstrap con i db ma per farlo con pgbackrest a quel punto patroni quando inizializzerà il primo nodo andrà a leggere il backup dal bucket e ripristinerà il nostro postgres brigandoselo dal bucket quindi l'unica differenza di fatto è che intanto verificare dopo aver installato i pgbackrest che il backup effettivamente sia presente e leggibile quindi stesso output di prima su macchina nuova già qui mi rilasso un attimo perché dico ok intanto il repository lo posso leggere ho i permessi di lettura dopodiché quello che dobbiamo fare è creare e di solito nei miei ansible play questa è una cosa che metto sempre già pronta è l'utilizzo del cosiddetto custom bootstrap script cioè l'esempio di questo proprio sulla documentazione di patroni tra l'altro ovvero crea uno shell script un bash normalissimo in questo caso lui non fa altro che andarsi a leggere dei parametri che vengono passati poi da patroni in maniera automatica per determinare l'area dati e per determinare eventualmente lo scope lo scope se vi ricordate è una chiavettina che c'era nella configurazione dei patroni YAML giusto? quello scope io gli ho dato lo stesso nome della stanza Flynn Flynn perché così io posso utilizzare il nome del mio cluster patroni per mapparlo sulla stanza di backup di pgback rest e automatizzarmi il tutto direttamente quindi non metto un hard code di pgback rest in questo custom bootstrap script se lo ripiglia dinamicamente a seconda del mio patroni del nome del mio cluster patroni tutto qua è una finezza ma può essere tranquillamente cavo via tutto sto pezzo qua metto la stanza qui e il bootstrap che funziona tranquillamente poi devo andare a dire a patroni che non voglio più usare il metodo in idb ma quindi cambio da in idb a pgback rest ma pgback rest gli devo anche dire qual è il comando che devo andare a eseguire quindi questo script che ho creato nella slide precedente gli do un po' di informazioni queste pigliatele per buone il recovery conf e la configurazione di recovery soprattutto gli dico qual è il comando che deve essere fatto per recuperare i log delle transazioni da pgback rest che in questo caso è sempre pgback rest con archive get non push e con i marcatori che serviranno poi a pgback rest per prendere il wall file e salvarlo nel posto giusto dopodiché vado anche a dire a postgres una volta in esercizio non utilizzare pgback backup visto che abbiamo pgback rest in funzione e normalmente per istanze grosse funziona un miliardo di volte meglio di pgback backup perché pgback backup poverino stream in tempo reale con un processo singolo senza compressione se abbiamo un'istanza già di qualche centinaio di gigabyte ci mette il suo tempo pgback rest con qualche centinaio di gigabyte ottimizzato bene parliamo di minuti la restore e la creazione di repliche però possiamo mantenere pgbase backup anche come un backup di pgback rest ovvero pgback rest non funziona e almeno con quell'altro metodo si può fare questo si può fare in questo caso io sto soltanto creandolo con pgback rest stessi parametri lasciamo tutto il resto invariato e nel momento in cui però abbiamo questa situazione pgback rest si aspetta anche che l'area dati sia già creata mentre in idb crea l'area dati automaticamente quindi fa la make dir con pgback rest noi dobbiamo dargliela già presente questa cosa in più tutto qua e ovviamente con i permessi giusti quindi postgres postgres e chmod 700 una volta avviato patroni quindi come abbiamo fatto all'inizio che cosa abbiamo abbiamo che patroni invece di dire state initialization dice running custom bootstrap script sta facendo girare lo script di lettura di pgback rest e alla fine il nuovo leader farà il cambio di timeline non sto a dirvi che cos'è la timeline perché se no ci stiamo fino a domani ma comunque è utilizzata per evitare sovrascritture non necessarie di wall file in caso di macchine che si vanno a potenzialmente andarsi a sovrapporre è un artefatto molto interessante all'avvio poi delle altri patroni lui creerà le repliche nel metodo che gli sono andato a dire e a questo punto io dal colpo d'asteroide mi sono rimesso in piedi in un colpo solo a questo punto I fight for the user arriviamo quindi al wrap up allora wrap up vi do intanto il link al github repository con tutta sta roba prendetela per quella che è nel senso ha delle configurazioni manca un bel po' di roba che qui vi dà comunque un punto di partenza magari fatevi un fork e lavorateci tranquillamente sopra io ogni tanto qualcosina gli aggiungo sono ovviamente due prodotti eccezionali patroni richiede un cambio di prospettiva per i dba perché si smette di usare postgres come database e si demanda tutto a patroni però non è una cattiva cosa onestamente si ha un processo che automatizza un po' come con oracle che si lavora con rman sostanzialmente con oracle rman è supervisore di tutto addirittura rman avvia e ferma le istanze patroni le può riavviare in realtà padroni non implementa il disaster recovery ma pg backrest lo fa quindi li possiamo far lavorare a suo tempo la prima versione di questa presentazione era patroni e pg backrest the dynamic duo batman e robin praticamente ecco ovviamente come vi ho già detto manca un sacco di roba r security la connection routing copia c'è i proxy questo manca assolutamente ma se no non staremmo nei tempi assolutamente utilizzare puppet ansible chef quello che volete è un'idea molto più che buona io amo ansible per una serie di motivi non ultimo il fatto che è agentless quindi mi permette di lavorare in maniera molto tranquilla anche utilizzando i tool nell'SSL ma ognuno ha i suoi tool e li può utilizzare come vuole sempre rtfm non ve lo scordate mai e abbiamo finito anche questa presentazione domande usatelo poi dopo le facciamo le domande quando lo usiamo esatto comunque credo ci sia sempre parlando di libera chat su irk credo che ci sia proprio il canale patroni dove trovate e gli sviluppatori allora lo sviluppatore principale credo che adesso sia anche lui lavori per microsoft microsoft si sta portando in casa i migliori e prima o poi magari gli manderò un curriculum se mi scoccio di fare il consulente potrebbe essere interessante comunque anche per lavorare con gli amici anche perché fanno parecchio lavoro da remoto ultimamente anche loro quindi bene o male ce l'hanno un po' sparpagliati e lo sviluppatore dei patroni adesso si Alexander Kukuskin due è di Berlino quindi anche lì i team sono assolutamente internazionali è una roba che effettivamente diciamo l'inglese è lingua franca assolutamente allora adesso visto che vi ho sdraiati per bene passiamo alla parte come diceva Benigni finisci il ludico comincia il no finisci il il sociale comincia il ludico dovrebbe essere c'è bombo una cosa del genere se non ricordo male non sono così ferrato con Benigni diciamo Benigni si ferma tutto Dante e non ci resta che piangere credo che sia uno dei il film più alto della storia del cinema italiana questa è la mia la mia opinione personale allora qualcuno vuole un po' di di caffè dovrebbe essere ancora bevibile ah c'è del caffè ma guarda quello potrebbe essere un'ottima idea visto che si sarà un po' rassegato allora ultima presentazione della della mattinata e ora si fa una bella chiacchierata vi racconto un pochino di storia e questa è proprio storia niente di tecnica andiamo proprio sul relax più questo qui come primo titolo era un told legends derivato proprio principalmente da un un pezzo musicale del videogame destiny che è meraviglioso storie leggende non raccontate ovvero come abbiamo iniziato con l'idea di avere un barbecue e poi abbiamo creato la prima conferenza di postgres in Europa è stata una roba veramente pazzesca allora intanto parliamo del postgres day il postgres day HPG day è un giorno normalmente una singola giornata ma ci sono anche varianti a due dove il giorno prima si fanno corsi di formazione e poi il secondo giorno invece ci sono talk che avvengono su più tracce una o più tracce dedicata a postgres e può essere sia nationwide come per esempio postgres day Italia che poi è quello che ha avviato tutto oppure proprio vocali tipo quello che poi magari si spera che venga fatto qui a Napoli e l'idea è far conoscere postgres e l'idea anche è rendere meno complicate possibile la vita a chi lo va a visitare ovvero io ho un'unica traccia ho tutti i talk in fila che a volte è capitato di avere più tracce in modo dove lo vedo magari non c'è la registrazione ecco il classico split brain no e anche il costo normalmente una conferenza come postgres la postgres conf europea che si articola su sei giorni ormai perché sono tre giorni di talk più uno o due giorni forse due giorni di formazione credo almeno quattro giorni sicuro è una conferenza che ha un costo anche importante l'ultima volta credo i ticket si aggirava intorno ai 200 euro quindi i postgres day normalmente 50 euro di ticket è una una cifra più o meno variabile poi dipende sempre da quanto costa e quindi l'idea è anche renderlo più accessibile dalle persone ce ne sono tantissimi in giro adesso nel mondo il Fosden PG Day quello che avviene il giorno prima del Fosden a Bruxelles il PG Day Amsterdam il PG Day di Santiago in Colombia il PG Day San Francisco il PG Day Chicago che si è concluso proprio da pochissimo il New York City che ci sarà a breve a settembre se non ricordo male il PG Day Paris che anche lui si è concluso da poco che normalmente fa coppia con il Nordic che è un PG Day che avviene nei paesi scandinavi quindi è variabile quest'anno credo sia stata ad Oslo normalmente avviene sempre due o tre giorni prima del PG Day Paris così la gente va a farsi il PG Day Nordic piglia l'aereo e va a Parigi e si fa anche il PG Day e si fa un giro perché poi uno lo approfitta anche per farsi un po' di turismo quindi vai nella città del Nord ti incontri con gli amici poi pigli tutto assieme l'aereo e vai a Parigi a fare un altro giro di talk poi ti fai anche il giro a Parigi che è una bella città e l'ultimo nato nella catena di PG Day è il PG Day Med che è PG Day sul Mediterraneo l'anno scorso è stato organizzato a Malta purtroppo non particolarmente pubblicizzato poi Malta non è molto accessibile purtroppo stiamo ragionando di dove farlo in maniera molto ufficiosa quindi qui lo dico qui lo nego si potrebbe fare qua a Napoli e quindi sarebbe una grandissima bella roba la mia speranza è che se poi dopo aver fatto questo perché poi è itinerante se poi lo riusciamo a rendere annuale quindi ogni anno facciamo il PG Day Napoli Napoli sotto il cappello di Postgres Europe che Postgres Europe si fa carico di tutta la parte burocratica contrattuale e quant'altro quindi tutta la parte di complessità di contratti di pagamenti perché poi i fondi ce li mette Postgres Europe potremmo fare una bella roba e renderla come dire permanente che a Napoli gli farebbe soltanto bene oltre all'Italia perché al momento purtroppo non c'è un PG Day italiano nazionale allora parliamo di come è iniziata questa cosa la storia comincia dicembre 2006 allora i titoli che ho dato a queste sezioni sono derivate da Wish You Were Here dei Pink Floyd e la prima è Shine On Your Crazy Diamond da dicembre 2006 a gennaio 2007 questo è a beneficio queste slide sono a beneficio per l'audience straniera perché non è molto conosciuta all'estero ma sappiamo che in Italia ci abbiamo il Linux Day e io come membro del Prato Linux User Group che abitavo da quelle parti all'epoca ero stato proprio al Linux Day di Prato nel ottobre del 2006 e subito dopo a un certo punto avevo cominciato a lavorare con Postgres avevo iniziato il mio primo lavoro con Postgres basato su Postgres e pensai ma perché non facciamo un giorno di promozione simile al Linux Day lo potremmo chiamare il PG Day no? Postgres Day PG Day e a questo punto c'era una comunità italiana di qualche tipo non strutturata come associazione ma comunque c'era un server se non ricordo male psql.it mi sa che non è più online però quel server l'avevo controllato purtroppo e c'era una mailing list italiana dove andai a scrivere ragazzi ma questo è proprio il messaggio originale ripigliato proprio da cose da non so se usavo in omaggio ordomo o una roba simile e lì ma perché non facciamo un PG Day magari il periodo dell'anniversario del primo rilascio di Postgres open source che è l'otto luglio e lo potremmo fare tipo Roma che magari una roba di questo tipo e lì questa è la traduzione ovviamente per chi non mastica l'italiano e a quel punto ci fu un bel po' di feedback gente entusiasta di no grande dai facciamolo mettiamo in piedi tutta sta roba facciamo sta giornata alla fine visto che comunque avevamo il Prato Linux user group il plug molto tosto molto ben organizzato infatti il Nalug mi ricorda tanto il plug dei tempi d'oro e devo dire che lì ci si è rimboccati le maniche a dire troviamo sto posto troviamo di qua e lo facciamo a Prato e ovviamente tutti i membri del plug che si sono fatti veramente non dico cosa e si è fatto un gran lavoro e in più tra l'altro scegliamo come data del postgres day 7 luglio del 2007 777 senza volere senza volere poi a un certo punto quando abbiamo comunicato ci arrivano gente e ci va ma chmode 777 avete fatto una roba meravigliosa la cosa più aperta possibile senza volere abbiamo fatto una pietra miliare assolutamente e quindi a quel punto abbiamo detto vabbè dai facciamo una roba tranquilla informale magari dopo ci avevamo una casa fornita dal comune di Prato che era la casa delle associazioni con il giardino mettiamo la griglia facciamo un po' di fiorentina che lì c'è una mano santa con la bistecca e ci aspettavamo sia e no 20 persone poi alla fine poi io perché colpa sempre mia non mi faccio mai i fatti miei purtroppo ve lo dice sempre la mia compagna e a quel punto io dico vabbè ma avvisiamo Postgres ufficiale no? che stiamo per fare sta cosa quindi a quel punto il 21 dicembre senza volere me l'ha scritto un greco antico sta roba giorno del sostizio scrivo quest'email sul Postgres Annunz che praticamente viene letta dal mondo Postgres e dico a luglio facciamo il PG Day in Italia magari pubblicatelo sul sito così almeno un po' di gente lo sa magari anche se non parlano inglese grazie best regards così dopodiché 3 gennaio del 2007 mi arriva quest'email sulla mia gmail che dice ehi ma io guarda Federico ho notato che state per fare un Postgres in Italia e io ho chiesto a San di farmi venire in Italia e non so se posso parlare in italiano ma cercherò di fare così mi sono comprato un disco un cd di corso in italiano e sto imparando e poi vado a vedere Josh Berkus Postgres Project core team member che ho detto aspetta Berkus quel Berkus e lì incominciò panico perché praticamente noi non ci aspettavamo di dire aspetta ma questi vengono quelli di Postgres e noi dobbiamo farlo serio dobbiamo fare una conferenza vera e non avevamo la minima idea di neanche da dove partire perché voglio dire se si voleva fare così nel prato così alla buona mettiamo il computer uno schermino e lì panico totale a quel punto da gennaio ad aprile 2007 welcome to the machine siamo risciuti tipo Charlie Chaplin siamo rimasti così e allora abbiamo cominciato a fare un po' la lista della spesa ovvero come facciamo a fare un PG Day a Prato intanto dobbiamo trovare l'avenue ovvero dove farlo si si è fatti il giro di tutti gli hotel ci hanno sparato delle cifrazze dopodiché se ne esce un amico Gabriele Bartolini che lui lavorava per la Monash University che è un'università australiana lui è stato anche parecchio in Australia che ha la sede a Prato e ci mise in contatto e ci fece un prezzo tutto sommato per l'affitto di due sale praticamente una molto grande aprire una call for paper configurare il sito quindi registri il dominio metti su il sito all'epoca non c'era nulla di che poi non volevamo utilizzare WordPress facciamo un sito basato su MySQL utilizziamo Drupal che all'epoca era ancora multidatabase adesso si è venduto l'anima a MySQL credo quindi amen e a parte che adesso ormai si va di statico io utilizzo Google per fare i miei siti è molto più comodo e poi migliorare la visibilità e poi beh però chi viene deve anche mangiare e allora comincia a fare una quota per il catering e poi scopri che devi mettere l'assicurazione del posto perché se no se qualcuno si fa male e poi devi comunicare alla polizia che effettivamente c'è una adunata di persone che stanno facendo qualcosa e poi incominciamo anche con i patrocini cioè siamo arrivati a tanto così da essere patrocinati dall'alto patronato della presidenza della repubblica ci hanno chiamati in questura a tutti ci hanno detto peccato che succede la settimana prossima ma se c'erano altri dieci giorni voi avevate il bollo della presidenza della repubblica noi avevamo tutti i patrocini che dice dovete partire con più anticipo più è alta la carica a cui richiedere più l'anticipo è richiesto e poi ci arriva sta telefonata alla questura oddio che abbiamo fatto poi è un attimo no? e poi a un certo punto ci è cominciato il brainstorming ma perché visto che ci abbiamo persone mixate mettiamo le traduzioni in tempo reale abbiamo messo le cabine con le cuffie a infrarosso con i traduttori che traducevano dall'italiano in inglese dall'inglese all'italiano così tu potevi seguirti i talk così e poi gli hotel per fare le quote di hotel scontate tra l'altro alla fine del post grace day ci arriva una pianta enorme alla sede del plug che era l'associazione albergatori di prato gli avevamo riempito gli hotel di sei mesi praticamente gli avevamo fatto fare i soldi di sei mesi in una settimana praticamente ci stanno ancora ringraziando quindi anche questo è importante perché è un indotto non da poco porta persone nei post il post grace day quando è ben configurato è ben pubblicizzato e poi aiutare le persone perché non organizzare magari un tour a Firenze sai il prato pigli il treno se a Firenze è un posto meraviglioso devo dire Firenze l'adoro e poi abbiamo dimenticato una cosa più importante where do we get the money e beh i soldi eravamo tutti squattrinati tutti ventenni io lavoravo ma avevo un soldo in tasca uguale anche gli altri e quindi panico numero due e mo che facciamo in realtà devo dire che alcuni patrocini ci furono concessi con soldi soprattutto la provincia di Prato ci ha aiutato Berkus tramite Sun Microsystem perché lui lavorava per Sun a suo tempo Sun era molto interessato a Postgres ci fece avere un finanziamento molto corposo e anche lì ci ha aiutato parecchio però l'idea era nati dal era una costola del Linux Day non potevamo pensare di farla a pagamento poi abbiamo scoperto che è la norma di queste conferenze infatti ricordo proprio Gabriele che aveva parlato con Dave Page uno dei dei membri della comunità di Postgres è anche grandissimo sviluppatore che dice ma siamo sicuri che devo venire gratis sei sicuro che non vuoi avere dei soldi cioè è normale che si paghino dei biglietti cioè le conferenze all'estero sono fatte tutte così invece noi no gratis che abbiamo fatto un azzardo pazzesco perché voglio dire noi avevamo delle conferme di partecipazione ma poteva anche non presentarsi nessuno quel giorno perché non avevamo la vincolante del biglietto cioè voglio dire io se ci ho messo anche 50 euro dico aspetta perdo i soldi no quindi è un qualcosa in più e poi abbiamo dire sì questo è un'immagine uno screenshot del primissimo sito mi sposto un attimo così questo qui è la sua bellezza il Drupal originale del Postgres Day originale tra l'altro tradotto sia in italiano che in inglese perché ovviamente c'avevamo anche gente che veniva dall'estero e quando man mano dopo Berkus si è cominciato a spargere la voce abbiamo cominciato ad avere Oleg Bartonoff l'autore di Eccestore Jason e Fulltech Search Josh Berkus già sopra citato David Fetter grandissimo sviluppatore o nonché il mio caro amico che poi lì ci sono nate delle grandi amicizie devo dire e lui è l'autore del Perl DBDI e anche credo della base del Foreign Data Wrapper del DB Link di Postgres gente che veramente mastica il C come da masticare una cosa meravigliosa Magnus Agadner il presidente di Postgres Europe ed è la persona che ha fatto il port di Postgres su Windows da lì prima di Magnus Postgres 8 prima di Postgres 8 si dovevano usare le Cignus Win per far andare Postgres su Windows Magnus ha fatto il port sull'architettura Windows e ha aperto un mondo anche per gli utenti Windows per usare Postgres Bruce Momjan che è uno dei padri fondatori di Postgres doveva venire ma purtroppo non travel schedule change dal last minute accidenti poi ho avuto il piacere di incontrarlo più e più volte è una persona meravigliosa veramente parlare con lui è come aprire uno scrigno meraviglioso di conoscenza informatica veramente fantastico quando c'è un talk di Bruce Momjan intanto l'aula puntualmente si riempie e la gente sta in piedi anche quando siamo al Fosdem e normalmente una volta è capitato di arrivare in fondo all'ora lo slot c'era la pausa pranzo abbiamo rinunciato al pranzo per continuare con quello parlava delle window function che era una roba talmente interessante che siamo rimasti tutti seduti lì che abbiamo mangiato dopo gli avanzi che avevano lasciato gli altri non importa era una cosa meravigliosa Dave Page che è un'altra la persona che ha chiesto aspetta ma devo pagare Simon Riggs il compianto Simon Riggs anche lui lì è stata la prima volta che l'ho incontrato e ci parlò del point in time recovery veramente lui aveva iniziato a aggiungere questa roba a Postgres e fosse per lui Postgres non sarebbe quello che è meraviglioso e poi gente che è venuta da Postgres da Francia dalla Germania dal Giappone addirittura a un certo punto mentre eravamo lì alla registration si presenta uno e fa io arrivo ora dal Vietnam so che state facendo il Postgres Day e sì grazie per averlo fatto dico che oddio cioè questo si è fatti in viaggio non ci ha detto nulla si è fatti in viaggio poteva trovare tutto vuoto è venuto qui dal Vietnam a sentirsi i nostri talk e a quel punto poi il sito è migliorato avevamo avuto poi sì sponsorizzazione Skype Skype era stato di recente quasi no non era stato ancora acquisito da Microsoft e basava praticamente tutto il suo funzionamento su Postgres Skype è un'azienda estone nasce in Estonia io ho avuto il piacere poi di lavorare sotto il primo impiegato di Skype che poi ha aperto un'altra azienda e ho lavorato per loro e l'Estonia è una fucina veramente una cosa meravigliosa di nuove tecnologie è veramente una cosa pazzesca Skype ci sponsorizzò e questi poi sono alcuni degli sponsor poi abbiamo Skype la compianta Sun Microsystem che purtroppo prima aveva fatto aveva investito su Postgres poi cambiò idea e andò su MySQL acquisì MySQL e io credo che lì sia stata veramente la martellata nell'ultimo iodo nella bara perché poi lì purtroppo è andata a gamba all'aria e pace peccato e se ha software SRL questa qui credo che ci sia ancora in giro e poi questa la engineering feder impresa computer programmi che ci portò i libri in regalo Dalibo che è un'azienda che è ancora in giro è francese questa qui 1600 di Grismeyer Negence questo qui sono io io avevo la mia la mia società di tini individuale che ha detto ma io quasi quasi mi butto Postgres sta crescendo tanto quello è stato un azzardo brutto perché poi non è andata benissimo era ancora troppo prematura la cosa e queste qui Xcon altre cose e questo sono io preso nella mia bellezza di fumatore di sigara ora ho smesso di fumare tra l'altro per fortuna ottima cosa all'aeroporto di Bologna e poi poi cominciò il lavoro serio finita la parte difficile la parte dura e cominciata la parte difficile pigliare tutte le singole fila di tutte le cose che avevamo messi in cantiere e farle arrivare a PG Day tra l'altro poi man mano che le cose andavano avanti si spargeva la voce e venimmo intervistati da Free Software Magazine riguardo proprio al PG Day sulla Wayback Machine c'è la pagina di questa intervista e lì cominciò l'idea di avere un Postgres User Group europeo lì praticamente questo è lo screenshot della pagina della Wayback Machine ma ho estratto due parti una di Susanne Brecht che lei era membra del gruppo PUG Postgres User Group Germania l'idea era proprio alla base di Postgres Europe è lo stesso concetto che c'è alla base dell'Unione Europea ovvero insieme attraverso la diversità tante culture diverse che si incontrano costruiscono un bene comune e fanno da cappello poi alle associazioni nazionali quindi al supporto delle associazioni nazionali e questa invece è la parte mia ovvero la comunità italiana di Postgres ha fatto il lavoro di avviare questa cosa però poi l'idea è muoversi fuori dai border nazionali raggiungere altri pezzi del mondo e creare connessioni perché poi alla fine è quella la cosa importante se siamo tutti a metterci una mano nessuno si fa lo sforzo esagerato e riusciamo a tirare in piedi della roba pazzesca e arriviamo ai giorni epici del 6-8 luglio qui in realtà sono per lo più immagini che vi racconto un attimo questa qui tra l'altro è l'immagine questo è Gabriele Bartolini e lui è un musicista gran chitarrista e questa gliela presi questa foto gliela scattai perché ho fatto anche fotografia foto analogica mi piace tanto e questa la scattai a Montemurlo vicino Prato se non ricordo male che era un concerto dopo che avevamo finito il PG Day e quindi c'era sta cosa andammo tutti assieme ero sul palco e facevo le foto e questa qui mi piace molto perché voglio dire vorrei che wish you were here perché è stata veramente una cosa ancora mi commuovo se ci penso cominciamo dalle mascotte questa qui è un elefantino blu che l'ha fatta la mia compagna lei c'era mista e tutti quelli che sono stati al postgres day di quell'anno hanno questo elefantino blu ancora se lo ricordano quando facemmo poi facemmo questa cosa qui che è questa è il break for no body ve la spiego un attimo dopo eventualmente ma credo che il break for no body vediamo se qualcuno la chiappa esatto 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 e questa qui è l'immagine un momento dello staff questa qui è addirittura questa è la maglietta e questa è la mascotte che poi è rimasta anche come mascotte di itty pug questo qui questo we break for no body io ho quasi lottato fisicamente per averci incastrato in questo design e l'idea è non ci fermiamo da nevante a nessuno stiamo facendo sta roba e andiamo per la nostra strada no a space ball one assolutamente e l'idea era proprio quella cioè noi dobbiamo portare a casa il progetto di postgres in italia farlo conoscere promuoverlo e portare avanti anche il discorso di postgres euro qui ci sono un po' di immagini che ho preso questo è david fetter che gli eravamo a mangiarci una pizza toscana una toscana croccante e tutto il resto questo qui è Alessio Cecchil era il presidente all'epoca era presidente del di itty pug eh no di itty pug scusate del plug del prato linux user group e qui invece ci abbiamo Magnus Agadner lui è il presidente di postgres europe se non ricordo male adesso Dave Page e questo è Simon Simon Riggs mi fa effetto io gli volevo veramente tanto tanto bene a lui veramente un carissimo amico quando è successo veramente ancora ancora mi viene da piangere e qui invece divertentissimo cioè eravamo a cena a prato con tutta la comunità e Gabriele Bartolini insegnava come si mangiano i cantuccini agli stranieri ovvero prima inzuppare del cantuccino nel vissante e poi mangiare e questa qui è la foto di gruppo di quell'epica abbiamo contatto allora noi avevamo questo so io che ero un pochino più cicciotto e senza capelli derivato dal infatti il militare in marina me l'ero tagliato e poi dopo non l'ho mai più fatti ricrescere poi me li sono fatti ricrescere per fare il cosplay di Doctor Who e da allora mi ha detto la mia compagna guarda te se te li ritagli perché stai molto meglio cioè dalla violenza e qui praticamente ci abbiamo questa è una parte in realtà non è completa non sono tutte le persone ma abbiamo praticamente allora il salone era di 120 posti avevamo la gente fuori dal salone in piedi perché veramente una partecipazione esagerata e in più avevamo un'altra aula dove si facevano i corsi quello era stato l'unico punto in cui era leggermente a pagamento cioè voglio dire 10 euro per il corso e c'è stata gente che ci ha anche criticato che eravamo la vergogna dell'open source perché ci pigliavamo dei soldi dico vabbè tra l'altro quei soldi io anche ho fatto il corso io quei soldi non li ho mai visti li ho passati tutti al progetto di Cosgress intanto 10 euro non è che mi cambiano chissà che di vita però intanto voglio dire il concetto è questi soldi comunque che vadano alla causa comunque all'epoca non era sponsorizzato molto Cosgress quindi aveva anche bisogno di soldi per mantenere in funzione le macchine e se avete curiosità di vedere altre immagini tra cui c'è anche questa qui questo è l'album mio Neo at Zion su Flickr questi qui sono altri album che sono immagini tirate via dal Cosgress Day dateci un'occhiata perché sono veramente molto molto belle veramente una roba fantastica e wrap up questo qua tra l'altro è un'immagine presa a piazza della Repubblica a Firenze un tempus fugit di qualche tipo beh intanto ringraziamenti speciali a due persone il già citato Gabriele Bartolini che e Marco Nenciarini due amici del del plug senza loro cioè io a un certo punto ho detto ok lo vogliamo fa lo vogliamo fa o lo disdiciamo perché veramente a un certo punto c'era venuto il panico a dire se non ce la possiamo fare magari loro hanno detto no dai facciamolo mettiamoci magari non verrà una cosa meravigliosa magari facciamo qualcosa voglio dire non l'abbiamo mai tentato ma almeno non facciamo la brutta figura di mandare le persone a casa ci hanno creduto e abbiamo portato a casa una conferenza pazzesca veramente pazzesca e un altro ringraziamento a Claire Giordano di Microsoft anzi Cytus DB però parte di Microsoft lei mi ha ispirato per fare questa presentazione al FOSDEM con questo Fibonacci Spirals 21 modi per contribuire a Postgres ha parlato proprio del PG Day lei non sapeva che io fossi quello che aveva avuto l'idea del PG Day quando ci ho chiacchierato mi fa ma senti ma te dovresti fare una presentazione e infatti l'abbiamo tirata l'ultima cosa l'ultima questa tra l'altro c'è anche la traduzione per i non anglofoni è il motto dell'Americo Vespucci una nave a cui sono particolarmente legato perché il mio babbo ha fatto il militare sulla Vespucci io marinaio anch'io marina militare quindi tutta la famiglia è marina militare quindi un legame molto forte non chi comincia ma quel che persevera che poi alla fine io con i miei amici tutto quel gruppo lì abbiamo avviato qualcosa e adesso persevera cresce e abbiamo una roba pazzesca ora vediamo se riusciamo a portarlo a Napoli sarebbe una grandissima cosa sarebbe un regalo che posso fare anche da napoletano all'estero alla mia città sarei molto contento se riuscisse a fare questa cosa quindi speriamo ci crediamoci speriamo che si possa fare dai e questo è tutto vai e grazie vai domande vabbè domande questa è proprio la storia da caminetto no? poi negli altri anni allora negli altri anni praticamente è successo che finito il PG Day nasce Italian Postgres User Group purtroppo ha avuto un po' di trascorsi pur rascosi ho avuto notizia che l'associazione purtroppo si è sciolta di recente vabbè il dominio c'è ho parlato anche con il curatore adesso che dovrebbe passare il dominio all'associazione Postgres Europe e a questo punto vediamo di tirarlo in piedi però io credo che comunque il PG Day Italiano è una cosa che deve essere sganciata magari dal PG Day Napoletano il PG Day Napoletano potremmo mantenerlo come una una cosa annuale e con quella si può fare sotto il cappello di Postgres Europe e poi tanto qua alla fine lo posso fare io e eventualmente qualcuno di così al massimo servono giusto un paio di braccia per alzare due scatoloni quando sarà il giorno quindi veramente l'impegno è minimo da questo punto di vista abbiamo comunque una struttura addirittura c'è un'applicazione sviluppata da Postgres Europe che gestisce le conferenze ed è open source la trovate su GitHub in pratica gestisce tutto il sistema di autenticazione registrazione la call for paper il sito web tutto automatizzato è fatto perché comunque c'è una serie in pratica se voi vedete il PG Day Paris il PG Day Nordic che sono gestiti così si appoggiano a quell'applicazione e c'è l'autenticazione tramite o out con Facebook con Google e anche con l'account comunitario di Postgres quindi io sull'account di Postgres io ho accesso poi a tutto e il sistema delle call for paper anche lì è tutto gestito in automatico in questo modo quindi tutta la parte già di infrastruttura lì è praticamente già tutto pronto quello che serve fare è semplicemente trovare l'hotel mettere in contatto i non italianofoni con l'hotel ma beh che l'hotel credo che un po' di inglese lo parleranno sicuramente però voglio dire magari la parte proprio spicciola di andare a vedere l'avenue io il treno non mi metto vengo un attimo che approfitto che veniva a mangiare una sfogliatella e nel caso vede anche dove è il post a quel punto si fa il contratto e lo fa Postgres Europe poi il giorno che ci sarà il Postgres Day poi ovvio tutti invitati a mandare paper assolutamente infatti inflazionatissimi sono ormai l'ultimo l'ultimo VG Day quello del Fosdem sono arrivate per 8 no 6 slot sono arrivati 300 paper è è un lavoro a tempo pieno da anche soltanto fare la nage esatto cioè da spararsi guarda quindi anche solo fare una roba di questo tipo quindi è veramente una roba ora essendo un primo esperimento e tutto io non andrei in una maniera esagerata cioè non andrei a fare tipo andiamo a pia una sala da 600 posti secondo me 100 posti che poi quello lì il base che offrono gli hotel va più che bene poi si può sempre se si vede che poi si fa sold out dopo 3 giorni si può sempre chiamare la tele e ti senti ciccia a me mi serve una sala da 400 posti perché qua abbiamo già una lista d'attesa di di 200 persone quindi questo si fa alla svelta diciamo però comunque intanto si fa un esperimento magari se nell'ambito del med se la cosa funziona e poi le cose si costruiscono man mano che poi vanno avanti e se si riuscisse a farlo annuale a Napoli mi rendereste la persona più felice del mondo perché andrei a mettere due grandi amori Napoli e Postgres tutto assieme e soprattutto voglio vedere ordinare la pizza con l'Ana ai miei amici la voglio vedere questa cosa perché la stanno iniziando aia questo glielo devo dire a Vic allora dai abbiamo perso l'occasione per vedere la reazione del pizzico vabbè io credo che infatti però qualcuno comincia a cedere però dai comunque voglio dire al di là di tutto poi voglio dire gli eventi collaterali perché poi ogni PG Day normalmente ha un evento collaterale per esempio il FOSDEM in realtà il FOSDEM PG Day si aggancia a quello del FOSDEM che per i mariti mogli informatici vanno al FOSDEM e i compagni vengono presi dallo staff del FOSDEM a visitare Bruxelles che è una bellissima cosa mariti e mogli vanno al PG Day e il resto magari visitano Napoli la Napoli sotterra questa è una roba che si può organizzare tranquillamente perché voglio dire basta sentire magari le agenzie che si occupano di queste cose e organizzare magari un tour durante la giornata quindi si ottiene un doppio risultato quant'altro quindi diciamo che gli hotel che avevo iniziato a guardare quando mi era stato accennato a questa cosa proprio in maniera che poi l'avevo detto anche a Marco proprio la sera che mi era stato detto ero al FOSDEM quindi era la cena di Postgre del FOSDEM era stato accennato quindi ho detto grande e quindi avevo cominciato ce ne sono tipo due o tre hotel nella zona di centro storico che hanno delle buone sale e che hanno anche un'ottima recensione e che potrebbe essere interessante perché poi voglio dire turisti teniamoli lì che c'è ogni ben di Dio a livello culturale possono comunque muoversi è ovvio che ci sono tante cose io tutte le volte che vengo a Napoli dico vabbè con la mia compagna dico vabbè abbiamo visto tutto al centro stessi vabbè ciao e ce ne so altre mille da vedere io sto scoprendo Napoli da turista da più degli anni che ci ho vissuto io ho vissuto qui fino al 99 e non mi sono reso conto di che cosa è Napoli fino ad allora un'area e vabbè andiamo soltanto nella zona di kuma e lì e lì cioè lì parliamo poi se andiamo con persone che vengono dagli Stati Uniti che lì hanno la roba archeologica per loro è vecchia di 200 300 anni e quindi parliamo di questo quindi vediamo un attimino se riusciamo a fare poi comunque appena avrò l'ufficialità della cosa poi si parte e ci si inizia a muovere ma comunque voglio dire l'impegno principale ce ne facciamo carico noi di Postgres 1 e poi quello che è interessante magari ecco la presenza delle persone in locale magari ecco per contattare il posto di un'agenzia che può essere interessata magari a fornire qualcosa poi in genere gli hotel sono quelli che poi forniscono anche il catering quindi anche questa parte qui di solito è automaticamente coperta da loro quello che è interessante è proprio l'evento collaterale quindi la promozione poi è ovvio che la presenza di un'associazione che si occupa di open source significa anche che l'associazione può essere presente e promuoversi assolutamente ovviamente ringraziamento a sproposito a provare a Zofun durante l'evento quindi intanto vediamo vediamo se si riesce a portare poi se si riesce a portare lo facciamo ma periodo si parlava di fine novembre si si no assolutamente io quando ne abbiamo parlato ci abbiamo due eventi c'è il Linux Day ma c'è anche la Postgres Conf che quest'anno viene fatta ad Atene e capita proprio nel periodo di ottobre la Postgres Conf è itinerante l'anno scorso credo sia stata fatta a dove era aspetta Berlino può essere ogni anno cambiano quindi diciamo che tutto sommato perché comunque è una conferenza di tipo europeo è un po' come i campionati europei ogni anno c'è una nazione che si occupa di questa cosa quindi diciamo che per evitare proprio di accavallarsi alla conferenza più grossa magari ecco prima di Natale potrebbe essere un'idea e magari portare le persone a visitare Napoli proprio nel momento non troppo caotico natalizio ma neanche troppo come dire di stasi che capisce adesso per il periodo di stasi non ce n'è più perché infatti ho visto che Napoli per è diventata ma infatti ho visto che Napoli sta diventando molto di tendenza infatti magari un ping glielo faccio rapidamente proprio per avere anche per avviarci subito perché c'è anche il rischio che poi magari gli hotel ci dicano ciao sì assolutamente infatti questa la faccio presente immediatamente perché effettivamente era una cosa che me ne sono reso conto ieri che l'ultima volta che sono venuto a Napoli è stato il 2018 e il 2018 c'erano i Airbnb i Airbnb erano principalmente centro storico adesso io sto al ponte di Casanova e ce ne so ovunque turisti che girano anche in quella zona tra virgolette periferica che poi periferica non è perché voglio di Porta Capuane a due passi però prima non c'era quindi il sintomo è stato di turistico la carta di Forcilla quello è stato il sintomo che Napoli sta cambiando e poi esplosa esatto prima c'era Forcilla non è il posto dove trova il turista diciamo che Forcilla io tra l'altro mia nonna era di Forcilla ma è